Allora, vediamo un po' Quando arriviamo Ok, ci siamo ragazzi Sì, dovremmo esserci Aspetta che tolgo il volume a YouTube Se no impazzisco Ci siamo Ciao a tutti Buonasera C'erano già una trentina di persone in attesa Molto bene Vi lancio così una news Come ho scritto Su Telegram Per chi mi segue su Telegram Può essere forse Non prometto niente Che più tardi potrebbe arrivare il Tore Però non lo so Non lo so Ve lo dico, pur parler Quindi tutte le domande le teniamo per dopo Esatto Per il Tore Esatto, tutte le domande su Quando arriva Tore Eh sì Tutte le domande su NBA Week Le facciamo slittare Poi magari il Tore ci sta già seguendo E evita di entrare Perché non vuole rispondere Però va bene così Allora Intanto Ben arrivati a tutti Ovviamente aspettiamo un pochettino Che arrivi un po' più di gente Sono qui Ci conoscete più o meno Io sono il Franz NBA Revivazon C'è Fede con me Aspetta Dall'altra parte Step Back Come detto Forse dopo Forse Arriva il Tore I Knicks Hanno appena vinto Contro Portland Che è il fatto più incredibile Della serata Vabbè neanche così tanto In realtà Portland Senza Senza Questa squadra Sì infatti Portland Dovrebbe andare All'Urd Perché veramente Tra infortuni Casini vari E un Covington Che finora Non è che abbia reso Più di tanto No 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 Sta No No Dico Sta lì nel limbo Nel senso Ha un record positivo Che però A Ovest Diciamo È difficile da mantenere Perché perdi tre partite E poi È un casino Covington Mi ha costretto A svincolarlo al Dunkast Ci avevo scommesso Quest'anno Insieme a Lillard e McCollum Invece Fra prestazioni negate Non ha preso Un voto sopra All'uno In tutte le partite Che l'ha avuto E alla quinta Sesta Ho deciso di svincolarlo Quindi Sono ufficialmente Saltato giù Dal treno Covington A cui era affezionato Perché ha giocato Ai miei Rockets Per mezza stagione E non ha giocato Affatto male Insomma L'era rabattezzato Da tutti Come il giusto Proprio la giusta presa Giustissima Di Portland Trade Blazers Che avevano bisogno Di difesa E possibilmente Di uno che non li penalizzasse Dall'altra parte E invece Per ora Almeno Non è Cioè In attacco Sta veramente Faticando Poi oh ragazzi Lì Diciamo che Se sei l'unico Che difende All'interno di una squadra Comunque non è facile Perché Portland È veramente Un formaggio Un Emmental Dietro assolutamente Anche perché Da quando hanno aggiunto Melo Le cose non Sono assolutamente migliorate Anzi ho visto Che su Instagram Un post In cui I telecronisti Dei Knicks Prendevano in giro Anthony Perché aveva difeso Un possesso Sul Rivers E hanno detto Tipo Melo playing defense It's an oxymoron È uno simoro E quindi Povero Ma infatti Io non sono Mai stato Un così tanto Cioè sì Bello rivedere Melo In NBA Però Probabilmente Portland Non aveva bisogno Di Carmelo Anthony Ecco Mettiamola così Anche perché Non è che Stia in attacco Questa stagione Sto giocando meglio Ma l'anno scorso Era comunque Molto inefficiente Cioè Tirava una cosa Tipo il 38% Da maniera di distanza E il 34-35 Da 3 Nelle partite Che ha giocato La scorsa stagione Ora quest'anno Sono meno informato Ma Aveva bisogno Di altro Di uno Molto più difensivo E Infatti La perdita Di un Al Farouk Aminu Che moltissimi Hanno Sottovalutato Moharkless E Al Farouk Aminu Erano le due Rocce Di quella difesa Ma tu pensa Tu pensa Che All'epoca Cioè Ti parlo Del 2016 Quindi Cioè La stagione In cui hanno vinto I Cavs Alla fine Ci fu quella serie Tra Tra Portland E Golden State Quella in cui Si fece male Credo Stephen Curry Cioè no Si fece male Prima Poi rientrò E fece Quei 17 punti Nell'overtime In cui Ed era gara 4 2 a 1 Warriors E francamente Sul 2 a 2 Quei Quei Portland Trailblazers Erano proprio Più completi In senso generale Cioè avevano Tre Almeno tre Buoni difensori Perché c'era Aminu C'era Harkless Forse c'era anche Arisa E non vorrei dire Una scemenza È venuto da noi Però mi sa L'anno dopo Mi sa Il 2017 Era da noi Quindi potrebbe Eserci stato Arisa Sì E poi Vabbè C'era McCallum Che è esploso E Lillard Che facevano Il bello Il cattivo tempo Che poi Most improved McCallum No? Eh può essere Adesso Non ricordo I premi Ma potrebbe Benissimo essere E poi Infatti poi Quell'overtime Diede la spinta Poi ai Warriors Per vincere la serie Però Non era così scontata Ecco Non c'era Arisa Vedi Subito una figuraccia Però Mi ricordo Aminu Perché fece Una grandissima Forse proprio In quella gara 4 Fu Uno dei migliori Quelle erano Le semifinali No? Erano le semifinali Sì Poi c'è Ok sì Esatto Due volte Gli Warriors Hanno rischiato Di uscire In quelle conference Eh sì Beh è stata Una stagione strana De 73 vittorie Poi hanno rischiato Più di In più di qualche serie Poi vabbè È stato l'infortunio Sulla chiazza di sudore Di Stephen Curry Insomma Nelle finali L'infortunio di Bogut Una serie di altre sfighe Però insomma La ruota gira E l'abbiamo visto Come è girato Per i Warriors L'abbiamo visto Porca troia No Io guarda Non sono un grande fan Dei What Ifs Non mi piace tanto Quei video di 30-40 minuti Che trovo Di gente che prova A delineare Tutta la carriera Di non lo so Derek Rose Se non si fosse infortunato Però Se gli Warriors Fossero usciti Contro i Thunder O contro i Blazers Adesso avremmo un'altra NBA Beh sicuramente sì Durante Sì Andato a Golden State E chissà Come avrebbe fatto Casey contro LeBron Nelle finali Secondo me Non partiva Da sfavorita Anzi Probabilmente Casey Aveva tante armi In più Rispetto a Quei Golden State Warriors Cioè aveva A parte Westbrook Che era in uno stato Di grazia Che poi non ha più ritrovato Perché vabbè L'hanno da MVP Però Era Cioè giocavo io Praticamente In quella squadra lì Per cui Diciamo Ti piace vincere Facile L'MVP Allora Siamo 120 Al momento Aspettiamo So che c'è Genoa Napoli So che ci sono Tanti napoletani Mi hanno già scritto Dicendo Ma proprio quando c'è Il Napoli Eh ragazzi Quando abbiamo tempo Quando abbiamo tempo Allora L'idea Sarebbe quella Come ho detto a Fede Di cercare Di rispondere Il più possibile A voi Eventuali domande Che vengono Che vengono fatte E Però Ci sono alcune Anzi C'è una cosa In particolare Che volevo chiedere A Fede Prima di iniziare Ovvero Il discorso All Star Game Ma è proprio Necessario Cioè Lebron Si è lamentato Giannis Si è lamentato Kawhi Leonard Si è lamentato Cioè è proprio Necessario Farlo Ok Discorso economico Un discorso Di Prime Convocazioni Che poi danno luogo A clausole Contrattuali Eccetera Però Ragazzi Questi stanno Giocando In pochi mesi Più di 70 Partite Già ci sono Tantissimi infortuni È proprio Necessario Io mi sono visto L'intervista Integrale Di Lebron In cui ha spiegato Tutti i motivi Per cui secondo lui Era assolutamente Non necessario E mi ha convinto Da tifoso NBA Certo Tifo perché ci sia Lo star game Perché è divertente Perché è uno Del weekend Uno dei più divertenti Dell'anno Però Lebron ha ragione Io non penso Sia necessario Però Da un punto di vista Economico L'NBA ne ha bisogno In questo momento Perché sarebbe Un'altra rinuncia Non ha tifosi Nell'arena Ha perso Più di un miliardo Mi pare L'anno scorso E in più Non so come Sarebbero gestibili Tutti Ovviamente Dalle presenze E dagli starters Cioè Gli all star game C'è un sacco di bonus Di cambiamenti Nei contratti Che entrano in gioco Di clausole Se un giocatore All starter E panchinare Non viene convocato Quindi Penso che l'NBA Sia un minimo Costretto a farlo Però Sono d'accordo Con i giocatori Cioè Soprattutto quelli Come Lebron Come Kawhi Che hanno smesso Di giocare A settembre Ottobre Dell'anno scorso Quei dieci giorni Erano comodissimi Quindi secondo me Non è assolutamente Necessario Tra l'altro Ho letto Che vorrebbero fare Tutto in una giornata Cioè Tre punti Schiacciate Skill challenge Quelle menate E le partite Tutto in una giornata Per cui Praticamente Giocherebbero due giorni prima All star game E praticamente Il giorno dopo Due giorni dopo Subito si riprende Quindi Proprio non c'è Non ci sarebbe Veramente un attimo Di respiro Non mi stupirei Se Non lo so Ci fosse una sorta Di sciopero Dei giocatori Per cui La parola di Lebron È super autoritaria Ovviamente In NBA Quindi Non penso che Sciopererebbero Nel senso che Non entrano in campo Però sicuramente Non sono contenti E magari Tutte quelle cazzatine Prima Three point shooting Done contest Potrebbero anche evita Magari la partita Puoi trovare un compromesso In cui tieni la partita E quella delle rising star E basta Aggiungere pure Anche se sono quelle Che ti tolgono Tante energie Effettivamente Tanto vogliono ripristinare Est-Ovest Perché in realtà Non c'è modo E tempo Forse di fare i capitani Di tirare su Tutto il baraccone Comunque poi Le parole di Kauai Che ha detto Prima i soldi Della salute Non mi stupisce Insomma Diciamo che i giocatori Hanno preso una posizione I migliori giocatori Quanto meno Hanno preso una posizione Magari se glielo vai A chiedere a Julius Randall Che potrebbe essere La prima convocazione O a un Jalen Brown O che so io A un Jammer Hunt Magari loro ti dicono Sì Lo facciamo Che tra l'altro Non hanno lo stesso problema Cioè Julius Randall Quando ha finito di giocare L'anno scorso A marzo Quindi Però d'altra parte Se la Lega adesso Già c'è il problema Che i giocatori Hanno tantissimo potere All'interno dell'NBA Se Adam Silver Al sassi di mano Dice se avete vinto voi Questo All-Star Game Non si fa Sarebbe un'ulteriore ammissione Di Inferiorità Dice delle brone Esatto Beh di fatto però È già così Cioè Sì Però Quest'anno in particolar modo Io penso che veramente Non sia necessario farlo Posto che io mi sono disinnamorato Degli All-Star Game Da Da diverso tempo Perché Dall'era le brone in poi Sono stati veramente Molto brutti A parte l'ultimo forse Beh l'ultimo alla fine Hanno difeso Quell'ultimo pezzo di partita Quindi Bene o male Ti guardi gli ultimi 3-4 minuti E dici Che bello Star Game Però i precedenti 45 Hanno fatto Non dico cagare Perché è stato un bel format Comunque Un po' diverso Con La beneficenza dietro Tutta una serie di cose Però Insomma È innegabile Secondo me Che un tempo Erano più sentiti Non so come dire Cioè Andare all'All-Star Game Anche perché Era l'unico Posto in cui C'era veramente Visibilità a livello mondiale Forse un tempo Adesso La visibilità Ce l'hai Qualsiasi istante Della tua vita Quindi E vabbè E vabbè E vabbè Io sono molto giovane Quindi non posso Dire di essere accordo con te Però immagino Ho recuperato Immagini I video Anche degli All-Star Game Vecchi In realtà più che la partita In sé Che ormai I giocatori affrontano Con una mentalità Per cui non conta niente Danno solo spettacolo Ripeto A me danno più fastidio Cioè Lo slam dunk contest Non ha più senso Di esistere Secondo me Più che altro Perché ormai Sono cose che abbiamo Viste e riviste Ogni anno I giocatori fanno Sempre più fatica A trovare Nuove cose Io sono un grande promotore Ho letto Che vorrebbero Che una proposta Per l'All-Star Game Era un torneo Di uno contro uno Tra i giocatori Quello sarebbe stato divertente Per esempio Però bisogna vedere Chi è disposto A far figure di merda In mondo visione Perché l'uno contro uno Cazzo Se poi perdi E perdi Male Però costringerai Due giocatori A impegnarsi Per quello Soprattutto Eh potrebbe essere Una bella idea L'uno contro uno Comunque Io ti dico Mi ero disinnamorato Anche della Dan contest Dopo ovviamente Vince Carter Perché è il motivo Per cui io poi Ho iniziato a guardare L'NBA Ti dico che Con la Vin Mi sono un attimo Risvegliato Perché Perché Già nel 2015 Aveva fatto Due o tre schiacciate Clamorose Secondo me E poi nel 2016 Con Aaron Gordon Hanno messo su uno spettacolo Che non si vedeva Effettivamente Da 16 anni Quindi Forse Io ho letto Che l'84 È forse Una delle migliori Schiacci Quella fra Wilkins e Jordan Non so se L'84 Sì Penso di sì Dovrebbe essere Quegli anni lì Il primo anno di Jordan Era l'84 Sì Era Sì Che comunque Se ci pensi Erano In ogni caso Schiacciate Molto Più Semplici Di quelle Che vedi adesso Cioè Adesso Se ci pensi Fanno delle cose Che noi non stupiscono più Ma che sono impressionanti Eh Quello è il problema Perché ormai su YouTube Trovi gente Che neanche gioca nell'NBA Ma che schiaccia di lavoro E fa Cioè Quello che si chiama Kill Ganon Kill Ganon Non so Per esempio Ci sono tutte queste competizioni a parte Quindi sono cose Che Cioè Se voglio vedere le schiacciate Le trovo tranquillamente In mille altri format L'NBA Dovrebbe sfruttare il fatto Di avere a disposizione I migliori giocatori al mondo E inventarsi qualcosa di meglio Di schiacciate Secondo me Avevano Ma guarda Ti dico Dopo iniziamo a rispondere alle domande Qua sia proprio un pur parlay Ti dico che A metà Tra il 2000 E il 2010 Ci fu un periodo In cui avevano introdotto Il ripeti la schiacciata Cioè Giravano una ruota E Dove si fermava la freccetta C'era una schiacciata del passato E il giocatore doveva ripetere Esattamente quella Nel presente Che era una cosa carina Però ad esempio Mi ricordo benissimo Che C'era Jason Richardson Che ha vinto due gare di schiacciate di fila Mi pare Giocava i Golden State Warriors Che era uno che staccava due piedi Di potenza pura E gli è capitata una schiacciata Dal Non mi ricordo se dal tiro libero O comunque una schiacciata Doveva saltare con un piede E non riusciva proprio Cioè Non c'era verso Che saltasse Staccando con un piede Per dire Per cui poter andarti bene È stata un'idea Un po' così Campata Dirà simpatica Però dopo Se ti capita Uno che proprio non la sa fare Diventa Una merda Abbastanza Abbastanza Però Ripeto Secondo me il torneo Uno contro uno Sarebbe divertente Perché Tira fuori Capito l'orgoglio Dei giocatori Perché tutti guardano E non vuoi fare Cinque contro cinque Se tutti giocano A cazzo di cane Pazienza Però uno contro uno Chi lo vincerebbe Un torneo uno contro uno In NBA Eh dipende Cos'è Uno contro uno A metà campo A metà campo Durant Non lo so Sarebbe un discorso Di mismatch Sì Durant Potrebbe essere Il più letale Anzi sicuramente È più letale Durant Ti capita Vince Carter E Quitti Intanto dico Comunque sì Era così Lebron non ha mai Partecipato al Duncontest No Non l'ha mai fatta Allora 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 Ho visto che Prima c'erano Una serie di domande Se vogliamo cominciare Proprio con L'attualità Attualità C'è il discorso Kevin Durant Ci sono un paio Di domande Gestione Durant Ieri notte Questione Durant Vogliamo dire Due parole Intanto mi dicevi Prima che ce l'avevi In Duncast Quindi Sei presa Nel di dietro Sì Entrano in gioco Un po' Il regolamento Sicuramente Dicevamo prima L'abbondanza Di precauzione Che è stata La motivazione Che hanno dato Per l'esclusione Poi Postuma Di Kevin Durant Io francamente Non so più Che aspettarmi Nel senso che Poi sono decisioni Talmente Come dire Visto Tutto quello Che ci gira Intorno Covid Eccetera Cioè Sì ok Tre test negativi Aveva l'ok Non aveva l'ok Non si è ben capito C'è stato Molto caos Che dici? Io penso che Allora Ho letto Un sacco di gente Che diceva Non c'era bisogno Di tirarlo fuori Perché ormai Aveva giocato Quindi pazienza Lo potevi lasciare Secondo me Quello non è vero Perché se è positivo Non è detto Che abbia necessariamente Contagiato tutti E Lasciarli tempo Per farlo Non è un'ottima idea Però Devo dire Secondo me Stanno un po' Ne stanno un po' Facendo una cosa Più grande Di quella che è Cioè La Lega Deve Vuole Continuare ad andare Non vuole interrompersi Assolutamente Deve cercare di tenere La cosa sotto controllo A qualunque costo Sì Hanno perso una partita Di pochissimo Quindi probabilmente Se ci fosse stato Durant Può dire che avrebbero vinto Ma una vittoria Una sconfitta In più Il regolar season Non vale Come dire La salute Per lo stesso discorso Che faceva Kawai Mettono i soldi Davanti alla salute Così Cioè Comunque la Lega Ha dei protocolli Che servono a Magari sono troppo stretti Però Sono quello su cui si basano Per continuare la stagione E se i giocatori Vogliono giocare tutta la stagione E non avere interruzioni Non essere costretti A rientrare in una bolla Un minimo di queste incertezze Le devono accettare Sì Tra l'altro Mi fa sorridere Perché in realtà Quando scoprirono La positività Di Seth Curry Lui in realtà Era in panchina Con i compagni Quindi In ogni caso Visto che leggevo Qualche commento Di mettere in quarantena Preventiva Entrambe le squadre O altro Con Durant È stato leggermente diverso Intanto KD Oltre ad averlo avuto Il covid Ha già fatto Credo una decina di giorni Per il protocollo Lontano dai campi Ora deve rifarli Ora A quanto pare E quindi poi è nato L'hashtag Free Free 7 Come deve rifarli Per il protocollo Mi dispiace per il tuo Dunn Esatto Mi pare D'aver letto Che Il tuo Dovrebbe Rifarli Però poi Non si è ben capito Perché ad esempio Adesso non ricordo Quale gioco Forse Bradley Bill Che aveva avuto Contatti Con In campo In quella partita Contro Dallas In cui Curry Era positivo È stato tenuto fuori Un paio di giorni Dopo è rientrato Subito Cioè Sono protocolli Rigidi Però a noi Esterni Almeno a me Veramente poco Chiari Certo Però appena Secondo me Se non ci fossero Fai che scoppia Un caso In cui per esempio I 76ers C'è stato un momento Di questa stagione In cui erano in otto E giocavano Con la squadra Della G League E lì Se i giocatori Si lamentano Del fatto che Il campionato è falsato Perché ci si gioca Con la G League È un po' ipocrita Perché la Lega È costretta A tenere Molto stretti I giocatori Se non vuole Che succeda ancora Che una squadra È costretta A giocare Con Tyrese Maxi Con tutto rispetto Mi ha fatto bene Che aveva fatto bene Quella partita Dakota Mattias E Isaiah Joe Però su quelli Siamo d'accordo Che insomma Almeno Dakota Mattias Era veramente Una pippa Incredibile E c'era uno Si chiama Buddy Di cognome Mi sa Odino Guarda Non lo so Hanno preso Magazziniere Probabilmente Esatto Che è stata poi Con la partita Con Denver Che hanno trasmesso Su Sky Perché È stata L'abbiamo vista Io ero in diretta Su Twitch Con un po' di gente Che mi segue Anche lì E l'abbiamo Non vista Però abbiamo Commentato insieme In diretta E c'era sto Dakota Mattias Che è diventato L'idolo delle folle Ed è stato tagliato La partita dopo Aveva messo La tripla Della vittoria Tipo E dopo è stato tagliato Povero Dakota Mattias Potrebbe essere L'occasione per Mannion Dovrebbe sperarti un po' Esatto È l'unico modo Tra l'altro Mannion dovrebbe entrare Nella bolla Della G League Se è già iniziato Io non seguo La G League Però Dicevano Comunque Se entra nella bolla Non lo possono più Richiamare Esatto Quindi Però è anche vero Che comunque Non giocherebbe Nel senso che No certo Mi fa bene Wannamaker Adesso tra l'altro Vabbè Dopo magari Entriamo anche Nei discorsi Di Papabili Trade O cose di questo genere E visto che siamo Nei Golden State Warriors Prenderai questa Cosa ne pensate Delle ultime prestazioni Di Ubre E Wiggins E situazione Golden State Dimmi la tua Io ti dico la mia Avevo fatto un video Prima dell'inizio La stagione Che si chiamava Non sottovalutati Golden State Warriors In cui avevo detto Che secondo me Avrebbero fatto meglio Di quanto la gente Si aspettava A condizione Che Wiggins E Ubre Avessero giocato In maniera Wiggins Mi aspettavo Un minimo di efficienza In più degli anni passati E Ubre In realtà I Suns Aveva fatto bene Quindi Se giocava Come aveva giocato I Suns Dicevo Che gli Warriors Erano in lotta Per un posto Per un posto Nei playoff Anche un sesto Settimo posto Non per forza Come dire Ultimi Nella corsa playoff E poi È iniziata la stagione Prima di due sconfitte 60 punti di differential Nelle prime due partite E là avevo considerato Seriamente Liminare il video E chiudere il canale Per non fare brutte figure In realtà Sono rimasto saldo Sul mio punto E mi hanno Come dire Provato Alla fine Se Ubre e Wiggins Giocano bene Credo che da lì Passi molto Della stagione Di Golden State Perché Curry Tutto da solo Non può fare Ci ha provato Ci è riuscito Anche qualche serata Ma ha bisogno Di aiuto Leggevo Non so se era Quello a cui faccio Riferimento Con la trade Che gli Warriors Sono interessati All'onzo Sì Che sarebbe Un bel acquisto Però Diciamo che Ubre e Wiggins Dipende Tantissimo Della stagione Di Golden State Successo Non successo Passa moltissimo Da quello Ok Intanto Mi è arrivata Ringrazio Fabrizio Colosio Cerchiamo di rispondere Prometto Tanto dico la mia Su Golden State E poi metto In sovraimpressione La domanda Che Tanto ti ringrazio Per i due euro Andrò a prendermi Un caffè Domani mattina Con tutto Un altro spirito Allora Io avevo dato Golden State Terza Ad ovest Quindi ero stato Molto più Che ottimista Perché avevo fiducia In Curry Perché avevo fiducia Soprattutto in Draymond Green Che da quando è rientrato Ha la testa giusta Sta giocando Secondo me Benissimo Pur viaggiando Tipo a quattro punti Di media Nella penultima partita Penso abbiamo Dato tipo 15 16 assist Una roba del genere E Ero fiducioso Su Wiggins Un po' Meno su Ubre Perché Aveva L'ingrato compito Di sostituire Clay Thompson Che è il giocatore Più efficiente E Più amato Credo Da Tutto il mondo Devo dire Che ha cambiato Un po' Il modo di giocare E Sta cercando Kerr Di Trovare il modo Di inserire Ubre E Wiggins Nei meccanismi E Secondo me Hanno il potenziale Per arrivare In playoff Non da terzi Come Ottimisticamente Avevo detto io Però magari Play in O poco più su Potrebbero anche Arrivarci Ubre ha fatto 40 punti Poi nell'ultima partita Quindi Io L'ho ribattezzato Invece che Kelly Ubre Clay Ubre Staremo a vedere C'è però Una cosa Da tenere conto Che Si stanno Guardando intorno Perché c'è Un discorso Legato ai possibili Buy out Di giocatori Tra cui André Dramond Per esempio C'è Ci sono i Pelicans Che vogliono dare via Lonzo e JJ Reddick E pare che Golden State Abbia comunque Chiamato Per sapere Chiedere informazioni E mettere sul Piatubre Per cui Non è detto Che i Warriors Di adesso Siano quelli Che ci troviamo Poi Più avanti In questa stagione Non vedo l'ora Sinceramente Che rientri Clay Thompson Perché Ragazzi È un giocatore Che io amo Alla follia Nonché Molto sottovalutato In tutte le vittorie Di Golden State Gli ultimi anni Senza di lui Non si sarebbe fatto Nico niente Ma la metà Dammi solo Un secondo Perché Avevo visto Adesso me lo sono perso Un commento Riccardo Leone Che aveva scritto Anche perché Rappresentano il 40% Del quintetto titolare Riferendosi a Ubre e Wiggins Te credo che sono importanti Volevo dire Ma mi spiego meglio Secondo me Da Ubre e Wiggins Passa praticamente Tutta la stagione Degli Warriors Perché Kerr può Cercare di inserirli Negli schemi Quanto vuole Ma se tirano Come hanno tirato Nelle prime Due o tre partite Di stagione Ubre ci ha messo Tipo tre partite A segnare Il primo canestro Non è schiacciata Non è proprio Il primo canestro Non è schiacciata Addirittura Quindi Non sono due A caso Del quintetto Sono i due Disegnati Per dare Non serve Fare troppo Serve dare La mano a Kerri E segnare i tiri Che devono segnare Le triple che costruiscono Però da quello Passa tutto Perché Kerri Può anche metterne Trenta partita Ma se gioca veramente Con gli amici Con cui vado a giocare io A San Lorenzo Non ci possiamo aspettare Troppo da lui E dagli Warriors Da Wiggins e Ubre Da quanto fanno canestro Da quanto sono in grado Di aiutare Kerri Dividendosi in due Il ruolo che aveva Clay Passa tutta la stagione Degli Warriors Mi correggo Eh sì No La penso esattamente come te Poi Sarà da capire Quando rientra Clay Cioè l'anno prossimo Ormai Se In teoria Se Dio vuole Dopo bisogna capire Cosa se ne faranno Anche di Ubre E Wiggins In ogni caso Visto che l'ha pagata Sta domanda E ti ringrazio di nuovo Fabrizio Che ne pensate Di quello che è successo In Biay Week Ti do questa Ti dico questa cosa Mi ha appena scritto Il Tore Tra una mezz'ora 40 minuti Puntini puntini Perché non entro Se non vi rompo Il cazzo Quindi Volete il Tore Gli dico Di entrare Tra 30-40 minuti E poi Lo chiedete A lui Nel senso Se chiedete a me Cosa ne penso A me ovviamente Dispiace Perché è un'avventura Che ho iniziato Nella bolla Quest'estate Con il Tore In particolar modo Ma con tutta NBA Week Dopo io Non conosco Le beghe interne O quello Che possono Pensare L'uno dell'altro Per cui Diciamo Non voglio nemmeno Dire cose Che non so Quindi ovvio Che mi dispiace Perché abbiamo Intrappreso Questo cammino Non dico insieme Ma quasi Quindi Di attore Che non rompe il cazzo Anzi Che ci leva Una bella patata bollente Parla a lui Spiega a lui Io Non lo so Anche a me comunque Spiace molto E Vediamo che cosa Hanno intenzione di fare In futuro Se Faranno canali Non lo so Non hanno ancora Fatto proposte Perché l'ultima live È un po' degenerata Però vediamo Vediamo che Sì Non si capiva Se ci stessero Trollando a tutti Però vabbè Insomma Aspettiamo di capire Cosa vogliono fare Io Comunque un posto qua Ce l'hanno Sempre Perché Insomma Come ho detto Siamo venuti su insieme Quindi È giusto così Giusto così Allora 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 C'era una domanda Sui Rockets Così mi univo Poi Che ne pensate Dei Rockets Era uno degli argomenti Cioè Un pochino Che mi ero segnato Nel senso che C'è adesso Questa voce Che Adesso La dippo Che possa non rimanere A Houston La dippo È in scadenza E quindi Probabilmente O ha già fatto capire A Houston Che non rifirmerà E quindi Non ha senso Per Houston Tenerlo E vuole probabilmente Monetizzare Avere qualcosa in cambio Invece di perderlo A niente C'è l'infortunio Di Christian Wood Ahimè Che invece È un duro colpo Perché Era Stato finora Il giocatore più continuo E migliore Dei Rockets Senza dubbio Io Hanno vinto 7 Delle ultime 8 Sono in piena Corsa playoff Però Adesso Sono un vero Punto interrogativo Perché senza Wood Senza la dippo E c'è anche Tucker Che è un altro Papabile nome Tra quelli che potrebbero Andare via Non lo so Se il roster Dovesse rimanere questo Io dico playoff Non so cosa ne pensi Tu Io Devo dire Ho visto la maggior parte Delle partite Ne abbiamo vinte 6 in fila Non con un calendario Irresistibile Abbiamo giocato due volte Contro i Thunder Contro i Bulls Ma è vero che sei tifoso Io sono tifoso Quindi Li ho visti tanto E diciamo Per il periodo in cui Li ho visti tutti e tre insieme Il trio Che I telecronisti ero Che si chiamano il trio Wow Wall La dippo Wood Funziona Giocano bene E soprattutto Cosa bella Mi sembra proprio Che si divertano Cioè siano un bel gruppo Con Arden Negli ultimi anni Ci hanno stato un sacco di tensioni Così quindi anche con Chris Paul Quando c'era Con Westbrook Alla fine dell'anno Quindi è bello vedere Vedere un gruppo Che gioca così E si diverte Adesso io Non ho capito La destinazione In cui la dirigenza Vuole che questa squadra Vada Perché hanno fatto Mosse che indicano Un senso E mosse che indicano L'altro Però Secondo me Il loro piano Era quello Di giocarsi Questa stagione Al massimo Delle proprie possibilità E vedere se si riusciva A convincerlo L'adipo a rimanere Se se ne fosse andato a zero Allora ci si buttava Sul tanking Però questo infortunio Di Wood È un bruttissimo colpo Anch'io mi ero Io mi ero proprio fomentato Alle sei vittorie in fila E ci vedevo carichi E diciamo In corsa Per i playoff Ora Wood Verrà Non abbiamo ancora Una data di ritorno Verrà rivalutato Settimanalmente Comunque pare Sì una distorsione Alla fine Quindi Niente di grave Però due o tre settimane Le salta E come dicevi tu Giustamente Reblazers A Ovest Se Wall Non è in grado Di non dico Vincerne tante Ma almeno Tenerci a tre Quattro partite Dall'ottavo posto Complicato Però sono contento Perché è un bel trio Sono tre belle storie Wall e Oladipo Tornano da due infortuni Gravissimi Cousins pure Cousins pure Wood Non so se voi In live O tu Franz Conoscete la sua storia Ma Lui è andato Undrafted La stessa sera La ragazza L'ha lasciato È andata a giocare In Cina È riuscito a tornare Ha fatto un sacco Di fatica A entrare nella Lega Quindi è bello Vedere questi Quattro giocatori Poi Cousins Quando gioca Si prende i tecnici E poco altro Ha fatto una partita Buona contro i Mavri E nel resto L'ho insultato parecchio In questione Sia di stagione Spero che giochi In maniera un po' Più intelligente Soprattutto adesso Che senza Wood Riceverà un sacco Di minuti in più Però la nostra stagione Dipende molto Dal prossime due Tre settimane Senza Wood Quanto saremo in grado Di tenere botta Questo sì Beh ti posso dire Allora io avevo Scritto un testo Sugli Houston Rockets Cinque giorni fa Una settimana fa Perché avevo l'idea Di fare un video Sui Rockets E Avevo detto un po' Della storia Di Christian Wood L'avevo buttata in mezzo Insomma Trenta secondi Di storia Dopodiché Sono andato a vedermi Il roster completo E effettivamente Ha un roster Parecchio lungo Houston In più Mancano i lunghi Perché l'anno scorso Ne avevano zero E quest'anno Hanno preso Causins TJ Sì c'è Tucker Il centro Che è un lungo corto Però avevano L'anno scorso avevano Chandler Che non metteva piedi in campo Quest'anno hanno preso Causins E Wood Free Agent Wood tra l'altro L'ho scritto Non ho poi mai registrato Questo video Però secondo me Adesso Per Penso prenda 13 14 15 milioni Al massimo E È sottopagato Cioè Secondo me Hanno fatto un affare Incredibile Che possano Scambiare Oladipo A questo punto Per un lungo E se sì Quale potrebbe essere Il prototipo Di lungo Che può far comodo Vucevic È il primo Che mi è venuto in mente Quando hai fatto questa domanda Per lo stile Che abbiamo lottato Negli ultimi anni Poi è vero Che dopo quest'estate Potremmo cambiare Completamente direzione Perché Morey se n'è andato D'Antoni se n'è andato Arden se n'è andato Qui anzi sicuramente Però Vucevic È un centro Che a me personalmente piace Non penso sia Quello che in America Chiamano Empty stats Guy Quello che mette Tante statistiche Esatto Secondo me È semplicemente Che a Orlando In attacco C'è solo lui Perché Orlando È da anni Che è una delle migliori difese Che è una delle migliori difese In NBA Ma in attacco Lui e Fournier Ogni tanto Quindi lui mi piacerebbe Di detto questo In realtà Come hai detto tu La squadra è lunghissima Abbiamo un sacco di giocatori Giovani Forti Questo Oshank Tate 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 è tanta roba Che Lui e Nwaba Sono la coppia di lavoratori Quelli che fanno tanta legna Abbiamo PJ Che è uno dei giocatori Che io amo di più Perché Mi sono affezionato Ormai da anni Che è l'unico Che ci mette Cioè non l'unico Però lui ci mette sempre Veramente il cuore Anche quando pare Che lo stiamo per scambiare Abbiamo Macklemore Che è un tiratore Fenomenale E anche uno che si chiama Sterling Brown Sì Ex-Block Non lo conoscevo In realtà ho scoperto Che lui era Lui è stato In questo senso di stagione Uno dei migliori tiratori In NBA Per percentuali Quindi diciamo La squadra c'è Secondo me Se noi giochiamo Abbastanza bene Quest'anno Non ho controllato Non sono sicuro Di quanti Grossi free agents Ci siano In estate Però Lo spazio salariale E la base di squadra Ce l'abbiamo Anche per fare Qualca giunta In free agency A maggior ragione Se la tipo Se ne va Sì In teoria C'è Drammond Che è free agent No poi Di lunghi In realtà Allora Ce ne dovevano essere Tantissimi Il problema È che hanno rinnovato Quasi tutti Perché doveva esserci Giannis Doveva esserci Paul George Lebron Anthony Davis Quest'anno Lebron L'unico Che è rimasto E non ha esercitato L'opzione Kawhi Leonard Che è da vedere Che è da vedere E poi ci sono The Rosen Aldridge Aldridge Però Insomma Aldridge ormai Ha più di una certa età Però insomma Alla fine Doveva essere Una grandissima Free agency Stringi Stringi Rimasto Kawai E nemmeno sicuro Perché poi Può esercitare L'opzione Alla fine Rimanere Dove Quindi È un grande È una grande Inculata Soprattutto per i Miami Heat Così Prendiamo un altro Argomento Che avevano Scommesso Molto Sulla free agency Dell'anno prossimo E a questo punto Devono mettersi in testa Se non fanno Una trade Al volo Adesso Prendendosi Magari Bradley Bill Se non mettono in piedi Una trade adesso Devono convincersi O comunque mettersi via Che saranno questi E che non Hanno modo di muoversi Ulteriormente In free agency E se saranno questi Francamente Io non Non penso Che risuccederà Quello che è successo L'anno scorso Per diversi motivi Sono stato Sul mio canale Mi chiamano Un hater Degli it In realtà Perché Credo che l'anno scorso Come abbiamo detto Anche in live Non so se in quel momento Ceri Su NBA Week Secondo me L'anno scorso Lì si sono allineato Un sacco di stelle Per quello che è successo Draghi Cirro Così E quest'anno Tutte le squadre est Si sono rinforzate Fila È proprio un'altra squadra Milwaukee ha aggiunto Holiday Nets Non ne parliamo Boston hanno Tutti un anno in più Sulle spalle Hanno aggiunto Thompson Loro non hanno fatto Nessuna aggiunta E Tanti hanno perso E Hanno bisogno Di farla Se vogliono Combattere Per le finali Secondo me Anzi Vedendo come hanno iniziato Rischiano anche Di arrivare Tra le ultime posizioni E uscire al primo turno Perché se Se gli Heat Beccano Non lo so I Sixers O i Bucks È da vedere Guarda Io ho fatto un video L'altro giorno Sui Miami Heat Intanto Visto che siamo in 200 Non vorrei fare il biga Della situazione Però mettete un like Chino al video Così Allora Io ho fatto un video L'altro giorno Perché Secondo me Miami è partita Con l'idea Di Sperimentare Nel senso Che ha fatto giocare Tanto Magari Gente Che O anche lo stesso Irro Che Per carità Sarà un bel giocatore Ma non può essere Il giocatore Franchigia Su cui si basa No No Non è che Però è così Cioè O almeno Non ancora Dopo magari Anche Stephen Curry Nei primi anni Era così Dopo magari Diventerà Stephen Curry Glielo auguro A chi lo sa Però Ah c'è anche il big Ciao big Eh sì Porto avanti Le buone vecchie tradizioni Intanto Sciabolero Anche Allora No Dicevo Hanno dovuto poi dare il massimo Alla De Baio È vero che hanno avuto Butler fuori tanto Hanno perso Jay Crowder Che secondo me Cioè Veramente è uno dei giocatori Più sottovalutati Di Dell'epoca moderna Per quello che fa E per quello che dà in campo E anche secondo me Sono allineati gli astri In una maniera Che probabilmente sarà Irripetibile Irripetibile Adesso secondo me Dicevo Miami ha iniziato la stagione Sperimentando E ora si trova a dover decidere Se sacrificare Se sacrificare La storia Se arrivassero Ottavi E fossi Philadelphia E fossi Philadelphia Direi cazzo Certo Merda Vuoi mettere trovare Gli Orlando Magic Oppure gli Indiana Pacers Senza TJ Warren Senza Levert O i Knicks Che hanno vinto ancora Sono una squadra onesta Comunque Piccola parentesi Il Big è riuscito a entrare Esattamente Mentre Franz chiedeva Di mettere like Non so se è un istinto Perfetto Speriamo che lui L'abbia messo like Perché sennò Si rivelerebbe Luca Grazie mille Cinque euro Così Ma Io non vi capisco Non vi capisco Comunque grazie Allora Cosa ne pensate Del caso di KD Di ieri sera Ne abbiamo già parlato prima Per cui Eventualmente A fine live Vatti A riprendere Il Quello che abbiamo detto No Sui Rockets Visto che Non penso No In realtà No Io ho fatto uno sfogo Perché Pareva ci avessero offerto Simmons Poi in realtà è uscito Che non era vero Però Oggettivamente Da Da quello scambio là Era Forse il massimo Che riuscivamo a ottenere Non compromettendo La stagione Perché avremmo potuto Continuare a giocare Al tira e molla Per altre venti partite Però con Arden non si vinceva E ci giocavamo in playoff Aggiungo E mi ricollego Al discorso di prima Che Franz e con Odellit Hanno fatto L'errore a non andare Su Arden Andare all in su Arden Per la stagione Eh Col seno di poi Per quello che stanno facendo adesso Ti direi di sì Ma il fatto è che loro Un'offerta L'avevano anche fatta Però mi pare Che i Rockets L'abbiano rifiutata Da quello che ho letto E poi Anche lì Non c'è stata molta chiarezza Però è chiaro che Arden Motivato È un grande giocatore Cioè C'è poco da dire Ai Nets In questo momento Sta facendo Il playmaker Cioè Prende pochissimi tiri Va a 22 23 di media Che sono 15 punti in meno di media Rispetto alla passata stagione 10 tiri anche in media Smazza 13 assi Sta partita Poi è vero che magari La passa a Durante Irving E questi fanno Da soli Però Comunque Si è messo in testa Di dover far quello E secondo me 3-3 È quello che Si sta in questo momento Sacrificando di più E per me Una grande soddisfazione Questa Perché Io sono un fan di Arden E sono sempre stato Sul treno Arden È costretto Rarantoni A fare quello È in grado Di fare il passo indietro Quando ce n'è bisogno E me lo sta dimostrando Comunque Solo per dirti Che in chat Scrivono Che Luca Quello che ha donato 5 euro Ha scritto la domanda Secondo me Oddio Allegarla Alla donazione Ha chiesto Dalla parte di chi sta Ah questa Eh Però L'ha scritta dopo Non l'ha legata Alla donazione Allora intanto Ti ringrazio di nuovo Per la donazione Che domanda Tra quelli Di NBA Week Cioè io Veramente Mi piacerebbe Poterti rispondere Ma Io No Veramente Cioè Ne so quanto voi Su quello che può essere successo Internamente Al loro gruppo Poi ragazzi C'è il Biga in chat Forse il tore Viene dopo Almeno da Quanto mi ha scritto prima Posso solamente Aspettare Loro Che loro Dicano qualcosa Io Sicuramente Ribadisco Facciamo le live Insieme Ci sentivamo spesso Però io Non ero Al corrente Di tutto Quello che è successo Per cui Purtroppo Non vi so Non vi so Dare Dare le motivazioni O dire Sicuramente Non dire Da chi parte sto No Assolutamente no Non sono stati Molto Cioè Si sono attaccati tutti Non è che conosciamo Quello che è successo Però siccome c'è Biga in chat E fra un po' Verrà tu Diciamo che la colpa è di freddo Così Adesso spunta il freddo Allora Il freddo non si è in chat Se il freddo sta guardando la live Non è colpa di nessuno Succede Hai capito Io mi schiero per lo sport ragazzi Io sono un amante dello sport Potrei girarci attorno Con 20 milioni di Paradi di perboli Parole Parole però Allora C'erano un paio di domande Ah Franzocchio Mi ero perso il commento del Biga Franzocchio Allora C'erano un po' di domande Mi pare sui Pacers Sui Jazz Sui Mavs Sui Clippers Sui Mavs Quindi con calma Cerchiamo di Rispondere un po' A tutti Visto che Mi ero segnato Un po' a livello di squadre Parliamo a questo punto di squadre Le sorprese della stagione Ovviamente Utah Jazz Cioè qua Non si discute Io l'avevo messi Quarti ad Ovest Quindi un minimo di fiducia Comunque ce l'avevo Su questi Utah Jazz Che potessero però Far così bene Perché hanno perso Con Denver E poi Ha ripreso a vincere Sì Sono una squadra Secondo me Un po' troppo Da regular season E il fatto di avere Gobert Può penalizzarli Nei playoff Cosa ne pensi Di questi Utah Jazz Se è un fuoco di paglia Spero di sì Tra l'altro Per il tatuaggio C'è in ballo Una famosa scommessa Del tatuaggio E quindi Dimmi la tua Sui Jazz Nel frattempo Cerco la domanda In chat E la metto In sovraimpressione Allora Io Dei Jazz Penso che Li stia aiutando Tantissimo In questo momento Il fatto che Sono lo stesso gruppo Da diverso tempo E in una situazione In cui sono cambiato Un sacco di squadre Per questioni di covid Grazie Giacomo Tanto io non so Stasera siete completamente Impazziti Vogliono sentire parlare Di NBA Week Per quello Ah no Non lo so Però non c'è la domanda Lo vedete anche voi Lo vedete Non c'è la domanda Lo scrive Rispondiamo No Comunque Sui Jazz Il fatto che Sono quei giocatori là Da diverso tempo È un fattore Perché secondo me Con il covid Un sacco di gente non gioca Le squadre devono adattarsi E loro hanno quel gruppo Dall'altro palato Sono molto corti Perché hanno una rotazione a sette Ma dopo Royce O'Neal Io mi sono visto il roster Perché domani uscirà un video Sul mio canale Sui Jazz E non c'è nessuno Adesso non mi ricordo i nomi Ma si arriva a Royce O'Neal E basta Però la cosa sorprendente È Stanno tirando C'è Clarkson Eh Clarkson e O'Neal Sono i due dalla panchina Poi Sono Stanno tirando tutti Benissimo da tre In squadra Cioè tipo che nessuno Sta tirando sotto il 38 Clarkson 39% E poi Mitchell Ingles Bogdanovic Conley Tutti sopra il 40% E come squadra Stanno tirando Sono tipo la seconda Migliore squadra Al tiro da tre in NBA Mitchell l'anno scorso Tirava col 36 Quest'anno col 41 Bogdanovic e Ingles Stanno tirando entrambi Col più del 45 E quindi c'è questo Oltre al fatto che Mitchell è migliorato Tantissimo come playmaker Ora come assist Non lo fa tanto vedere Però io ho visto Qualche partita Dei jazz E si fidano molto di più Di lasciare lui Come play In alcuni possessi Perché è capace Di fare dei passaggi Che due anni fa Non era in grado di fare Quindi Sta migliorando anche lui Quindi sicuramente Una combinazione Di questi tre fattori Oltre al fatto che Alla fine sono una squadra Forte e talentuosa Conley L'hanno ritrovato Dopo la stagione scorsa Aveva giocato malissimo Però ho dei seri dubbi Sui playoff Come hai detto tu Soprattutto su Gobert E sul fatto che Sono molto corti Sì Allora Sul fatto che siano corti È vero È vero E Sono allenati divinamente Io gli ho dato fiducia Perché l'anno scorso Secondo me Con Bogdanovic In più Il primo turno Lo passavano Senza Senza dubbio Erano sopra 3 a 1 E poi Si sono fatti rimontare Da Dender E poi Come ho detto Nel video Che è uscito Qualche giorno fa Su Donovan Mitchell In particolare Mi dà l'impressione Di essere un giocatore Che Oltre a migliorare Di anno in anno Il proprio gioco E ad estenderlo Perché quando È entrato in NBA Era un giocatore esplosivo Ma non aveva questo tiro Non aveva questo trattamento Del pallone E questa leadership Adesso è al quarto anno E ha già le chiavi in mano Della migliore squadra Record alla mano Della NBA È un realizzatore Clamoroso Clamoroso Ha messo su un tiro da tre È veramente Molto più che affidabile Il vero dubbio È sempre È sempre È sempre Gobert Che In regular season Con i ritmi di regular season Con le difese Gli attacchi In regular season Ha un certo Effetto Intanto Giacomo Grazie Altri due euro Adesso Rispondiamo Comunque Volevo farvi un annuncio Freddo mi ha scritto E anche lui Nella live Quindi non è colpa Neanche di Freddo Sono cose che succedono Tra amici E quindi No no Allora è colpa mia ragazzi È colpa di stare È colpa mia È vera Gloria Il wet dream Di noi tifosi Dei jazz Eh Allora Parlavamo dei jazz Quindi T'abbiamo anticipato Potrei fare anche a meno Di pagare E risparmiarteli Per un'altra domanda Sì Per cui Diciamo che A livello di quintetto base Secondo me Sono una delle scuole Più complete Della Lega Hanno il sesto uomo Dell'anno Al momento Finora E E poi hanno motivazioni Motivazioni Perché Che Che li Che li trolla Ogni tre per due L'uscita Dell'anno scorso Una serie di altre motivazioni Comunque Non essere mai Cagati Da nessuno Eh Può dare motivazioni extra E Per ora Io ho preso Il loro roster Perché Perché Oltre a Volevo Volevo dirvi un po' di nomi Ce l'ho in lista di punti per partita E quindi oltre a Si va Donovan Mitchell Clarkson Conley Bogdanovic Gobert Ingles Royce Neal Derek Favors E questi sono quelli che giocano E sono otto Poi tutti gli altri Non ne ho mai sentiti Nominare Eh Elia Hughes E' vero che nei playoff Poi in realtà le rotazioni Sono a sé Di otto giocatori Per cui Il problema è come ci arrivano fisicamente Quello sicuramente sì Poi insomma Vediamo Io Sono piacevolmente sorpreso Veramente Franz Ma la maglia di NBR Vazon si può avere Eh sì Allora Su Twitch Avevo messo su Un Cioè Ho fatto dei test Di Di Magliette Ci sono le tazze Cose così E Per cui se volete andare su Twitch Sulla piattaforma Viola Scusate che su YouTube Non si può dire Trovate in teoria Anche il merchandising Famigerato Tra l'altro il logo vecchio Quindi è una sorta di Vintage Introvabile In molti hanno chiesto Di Delle predizioni Tipo dei premi Finora Adesso uno ha chiesto Il pronostico Prossimo MVP E prima qualcuno Aveva chiesto Finora Chi erano per noi i premi Ora non so se Eh bisogna Faccio fatica a seguire la chat Perdonate Ho una certa età No no Infatti sto tenendo un occhio Ok Ho una certa età E Beh Vogliamo dire un po' Secondo noi i premi Finora Per me va benissimo Partiamo dall'MVP Per me è Joel Embiid Per il momento Anche per me Certo Jokic è lì Però Embiid ha vinto Molto di più E E quindi Embiid conta tantissimo Le vittorie Nell'MVP Molto più di quanto La gente non realizzi Cioè tipo Nella storia Sono stati tre Gli MVP Che sono stati fuori Dalle prime quattro posizioni Cinque posizioni Nella conference Una cosa del genere E una è Westbrook Una è Westbrook E l'altro mi sa che Oscar Robertson E poi non mi ricordo Il terzo La siete fuori di testa No Per la tua prova Non spenderli tutti Va bene Prenderò Cosa ci prendo Non ci prendo neanche Un pannolino Con due euro Donami 50 euro Cazzo Mi prendo un pacco Domani faccio la No dai Grazie a parte tutto Grazie mille E E quindi Sì Embiid Fondamentalmente Anche per me Quindi MVP Embiid Giocatore più migliorato Wood Per me Wood Io per questioni di affetto Quasi Io temo Temo Che lo abbia già vinto Jeremy Grant Anche Anche Temo Però sta facendo male Nell'ultimo periodo Non sta più mettendo Le cifre di inizio anno Per cui Se la giocano Se la giocheranno Secondo me Grant Wood Poi prendi a caso Un Porter Junior Poi c'è il Most Improved Player È forse Il premio più difficile Da selezionare Perché è molto vago Perché Spessissimo Non è C'è che vuol dire Più migliorato Molto spesso I giocatori che lo vincono Sono giocatori Che non sono migliorati Ma che hanno semplicemente Avuto più spazio Quindi più tiri Più Più possibilità E non sono veramente Migliorati come giocatori È difficile Dire chi è veramente migliore Cioè Mitchell potrebbe essere Un candidato Al Most Improved Player Ha guadagnato 5 punti percentuali Da 3 Playmaking Sta giocando Del basket vincente Però nessuno glielo darà mai Perché faceva Più o meno Le stesse statistiche Uno come Come Scusa Volevo dire qualcosa Cioè uno come No no Stavo pensando che con 2 euro Mi prendo 20 golet Oro in effetti È così Vabbè E quindi uno come Woody Invece secondo me Non è che è migliorato Così tanto L'anno scorso Al finale di stagione A Detroit Ha fatto benissimo Semplicemente adesso Con la trade Il suo nome Ha acquistato un po' Di importanza È diventato il centro Della squadra E fa numeri Più importanti Ma Sono molto simili A quelli del finale di stagione L'anno scorso Con Detroit Sì c'è anche Mikael Bridges Di Phoenix Anche Non mi sono dimenticato Che è veramente esploso Però a livello di cifre Alla fine Sono cifre Più che altro Da sesto uomo dell'anno Anche se Parte titolare Quelle di Bridges Invece quelle di Grant E Wood Sono cifre Da all star Al momento Assolutamente Diciamo che Probabilmente Quello conta Con Ticchi Ancora qualcosa Difensore dell'anno È francamente Impronosticabile Io non saprei Veramente Chi Chi poter dire Io Non sai se No Non so se tu hai idee Io Speravo L'anno scorso Tantissimo Che lo vincesse Simmons Perché Simmons È un mio protetto Un giocatore Che stimo tantissimo Uno dei miei pupilli Quindi l'anno scorso Secondo me Lui era lì E siccome Antetokounmpo Non mi sta proprio simpaticissimo Speravo lo vincesse Lo vincesse Simmons Quest'anno sta giocando Meno forte in difesa Però lui è sempre lì E poi i giocatori Sono quelli Cioè Non penso Si possa dare un difensore Sull'annata Lo danno Secondo me Alternativamente I giocatori più forti In difesa Della Lega Cioè sarà sempre Fra Davis Antetokounmpo George Forse George Che due anni fa Era arrivato secondo E sempre gli stessi Tanto ringrazio anche Reale Io francamente Non so cosa dirvi stasera Quindi mi state convincendo Ad abbandonare Twitch O la piattaforma viola Ecco È un ricordo con il cuore NBA Week Vabbè ma che cazzo Io devolvo loro Li tengo io questi Franz spendimi due parole Su Re contro C'ho fatto una reaction E quindi ho visto Quegli highlights Per la prima volta Come mi avete visto Oggi ho visto anche la partita Perché l'hanno ritrasmessa L'avevo salvata su Sky E l'ho rivista E LeBron James Cioè vogliono dire qualcosa Di questo androide qui C'è ancora C'è ancora da dire? Non lo so No no Ce n'è ancora Perché è l'unico Al momento Insieme forse a Kevin Durant Che riesce a Schiacciare l'interruttore E dire Questa partita Adesso la vinco Cioè Non ce ne sono altri Che vedo in NBA Al momento Che sono in grado Di fare Una cosa del genere Contro Denver Tra la fine Del Terzo periodo L'inizio del quarto Mi pare Sì Ha praticamente Con una serie di giocate Una dietro l'altra Assist Che sembravano Delle fucilate Quel suo tiro Ormai Su un piede solo Cadendo indietro Cioè È diventato Francamente Immarcabile Ingiocabile E non è la prima volta Che lo fa in stagione Perché anche contro i Bucks Un paio di settimane fa Stessa cosa Terzo quarto Era più o meno pari E lui ha deciso Di vincerla Il quarto quarto Ha messo una cosa Tipo 17 punti 15 punti E l'ha vinta lui Io Il punto Che faccio Di Lebron Che secondo me In pochi Dicono Secondo me Lebron è il giocatore Più intelligente Della storia Cestisticamente Sia come Visione di gioco Ma anche come Gestione del corpo È lui Alla fine Che si è Non so se inventato Che ha reso famoso Il load management Non kawaii Perché la cosa Di playoff Lebron esiste Da tanto tempo E per il cambiamento Che è riuscito Che è riuscito a fare Al suo gioco Cioè Lui Si è reso conto Di non avere Più la Come dire Disposizione fisica Per giocare Come giocava Nel 2012 2013 Ancora prima Nel 2010 Dominando Tutti sotto canestro Per questo A me piacevano molto I giocatori Mi viene il termine Eleganti Come dire Quindi un Kobe Bryant Un McGrady Lo stesso Vince Carter Pur essendo molto potente Era molto elegante Più talento Che fisico Dici Sì Nel senso Eleganza nei movimenti Lebron Nei primi anni Era molto Non dico grezzo Però Molto fisico Quindi Aveva anche Un tipo di tiro Ce l'ha ancora Un tipo di tiro Che non è elegantissimo Ha una Non è reale Un cazzo Ha un tipo di tiro Che a me non piace Personalmente Come estetica Però è efficacissimo E Nel corso degli anni Però Ha messo sempre qualcosa in più Soprattutto Dopo la scoppola Con i Dallas Mavs Del 2011 Che secondo me È stata veramente Il punto di In cui Lebron È diventato Quello che È adesso Cioè Ha capito Che non Non basta Probabilmente Il talento Che c'era bisogno Di fare un passo In più A livello di leadership A livello tecnico Allargare il gioco Insomma Lebron Poi nel 2016 Scrissi Una lettera Lettera di un hater A Lebron Che è persi Poi però Arrivò a 20.000 E passa Visualizzazioni Migliaia di condivisioni Insomma Dal 2016 Effettivamente Sono diventato Un Fan Di Lebron James Senza Se e senza Ma Poi Ragazzi Ha 36 anni Ragazzi Io ne ho uno in meno Porco Giuda E ho mal di schiena Evito di dire Parolacce Perché lui Prima del 2011 Aveva Stava diciamo Iniziando ad avere Un po' L'etichetta del perdente Perché a Cleveland Non vinceva A Miami Ha fatto quell'intervista Not two Not three Not four Not five Un po' Tirandosela Quando ha perso Quel primo anello La gente ha iniziato A dire Qua c'è qualcosa Che non va Perché se non hai vinto Neanche così E quindi sì È stato per lui Il game changer Quello assolutamente E non so Se è più impressionante Lebron Che fa questa stagione Qua a 36 anni Lo leggevo Tipo un sondaggio Su Instagram Lebron che fa questa stagione A 36 anni O Durant Che viene Da un opportuno Al tallone d'Achille Al tendine Al tendine No Effettivamente Bisogna dare Visto che Si parla anche Di NBA Week Bisogna dare al freddo Quel che è di freddo Cioè lui aveva detto Che Durant Si sarebbe ripreso meglio Per il tipo di fisico Che ha È molto Longilineo Leggero Però Che potesse Rientrare A 30 di media E con questa fiducia Dopo un Intervento Un infortunio Di quel tipo E tra l'altro È il più votato Per il fantomatico Stargame Fino a questo momento Meritatamente Diciamolo E uno dei Come dire Dei forerunner Delle facce Della corsa Alla MVP Finora Cioè lui Embiida Jokic Io direi I primi tre In questo momento Sì In grosso modo Sì Io stavo pensando Al vecchio Lebron James Però Si sta gestendo molto Cioè Mette buone cifre Ma senza Cioè così In scioltezza Proprio Totalmente In scioltezza Allora Eravamo ai premi In realtà Poi abbiamo divagato Sesto uomo Direi che siamo Entrambi d'accordo Su Clarkson Stando alla nostra Analisi Sigmaz Coach dell'anno Eh vabbè Queen Snyder Per il momento Per il momento Snyder Non sotto L'utero di Tyron Lue Soprattutto perché Comunque Clippers Erano una Polveriera A fine A fine stagione Quindi riuscire a Gestire gli animi In quel modo È degno di merito Direi di sì Direi di sì Che altri premi Mancano? Basta? Eh mi sa basta Ci sta il premio Ci sta il premio Visto da grandi fan Di Tucker Ogni anno Ci sta il premio Delle sneaker Più belle E ogni anno Lo vince Tucker Da tipo 6-7 anni Poi c'è lo Sportsmanship award Che invece Conley Lo domina Nell'ultimo decennio Fatti Fatti Vincerà l'Ors Nella prossima pandemia Te la ricordi Quella cagata Di Ors Che hanno fatto Sì L'ha vinto Conley E io dissi Cazzo Finalmente Conley Ha vinto un titolo Poi Lui In realtà L'ha vinto io Grazie a quel torneo Di Ors L'ha scoperto La sua fantastica Note Di essere ambidestro Proprio Che tira Con la sinistra E con la destra Come se fossero La stessa mano E Ah Roti manca E quindi ha battuto La gente così Facendoli tirare Con la mano debole E l'ha vinto così No io non l'ho seguita Perché ho visto Ho visto l'inizio E ho detto Ma che cazzo Ma cosa fanno Ma veramente Vuoi vedere sta roba qui No no Spento Qualunque cosa Per tenere i tifosi Attaccati agli schermi Vabbè quindi Roti Rookie of the year Al momento La Melo Ball La Melo Sì La Melo Per forza Adesso parte pure titolare E ha fatto il carriera Ieri 34 E insomma Penso che al momento Non ci sia Non ci sia Gran discussione Anche se Oltre a Vabbè Gli altri due Wiseman Anthony Wiseman Edwards Ecco mi sono spoilerato Volevo dire Col Anthony Però ho avuto un lapsus Tenete occhio Tenete l'occhio Col Anthony A parte anche Tyrese Aliburton Che è un po' esploso Col Anthony Ha giocato una Preseason spettacolare E ha iniziato molto bene La stagione Quindi anche lui È una bella E adesso gioca in quintetto Perché Fulz Si è fottuto Il ginocchio Io aggiungo anche Emmanuel Quickley Di cui ci ho fatto un video E Desmond Bain A Memphis Che sta Nell'ultima settimana Sta andando a Quasi 15 di media Insomma E Memphis È lì Non so come Non so perché Ma è lì Con tutti gli infortuni Che hanno avuto Veramente incredibile Infortuni Sfighe Boh Sono lì Sopra il 50 Percento Tra l'altro Al momento Sì E menzioni anche Per Pritchard Che non penso Vincerà mai Rookie of the Year Però è già tornato All'infortunio E sta giocando bene E ha giocato Sì stanotte Contro i Clippers Insomma È molto concreto Lo abbiamo detto Tante volte Che alla fine I giocatori pronti Da subito Probabilmente Li trovi più giù Nel draft Toppin Toppin è scomparso Sì Non è che stia facendo Tra l'altro Non so neanche se Abbia giocato Tanto Il Napoli Ha perso Così Il Napoli Con la doppietta Di Pandev Con la doppietta Di Pandev Tra l'altro Io non voglio Non voglio Parlare di calcio Non voglio dire Che squadra E questo ha portato Tutti a pensare Che sia Juventino Adesso tutti Pensano Che sia Juventino Che in realtà Ci sta È un motivo Per non dire La propria squadra Però no Per chi mi segue In questa chat Non sono Juventino Vi faccio questa Questo spoiler Questo spoiler Esatto Allora Hobbitopin ha giocato Sì Due punti E tre rimbalzi In nove minuti Vabbè Non Per il momento Veramente Poca Poca roba Insomma Poi ha saltato Tutta la prima parte E Poi c'è un allenatore Come Tibodo Prima di farti giocare Tibodo Devi sputare Tutto il sangue Di sto mondo Anche Quickly Vorrei vederlo Di più in campo Sì Mi pare Anche stasera Fa il suo Poi lui Vedeva un video Di It Check Non so se lo conosci Che è un canale Importante americano In cui faceva vedere Che tipo Più di metà Dei tiri Che ha segnato Quickly Fino alle stagioni Sono floater Impressionante Alla sua Signature move Ormai È diventato Mister floater Che è un tiro Che fino a Tre quattro anni fa Non si vedeva così spesso Sto prendendo sempre Pi piede Arden l'ha un po' Reso forse celebre Portato in auge Poi un sacco di gente Sta imparando a usarlo Spesso Ti dico Lo usava sempre Praticamente Tony Parker Vero Perché Essendo piccolino Essendo uno Che tra l'altro Era senza All'inizio della carriera Poi senza tiro Dalla lunga Attenzione Attenzione Non dico niente Era senza tiro Dalla lunga Allora Tra l'altro Non so se hai visto Il documentario Su Parker Su Netflix No non l'ho visto Ma voglio vederlo Guarda È un film Praticamente Intanto Scusami C'è il tore Buonasera a tutti Dall'oltretondo Sei in giardino Dove cazzo sei? No Eccoci Buonasera Preparati Tu sai cosa ti aspetta Adesso Cosa? Qua abbiamo ricevuto Donazioni su donazioni E domande su domande Sulla situazione E ti abbiamo lasciato La patata bollente Quale situazione? Manca poco Manca sempre meno Mi devi dei soldi? Come sta? Sì esatto Esatto Te li rigiro dopo Se mi dai l'Iban Te li rigiro Vai Ottimo Ciao Adesso ciao Adesso che è entrato il tore Potrebbe veramente diventare Una grande live per te Franz Perché le donazioni Pur di far parlare tore Rivolgono i soldi indietro Te lo dico io Allora Più donate ragazzi E più racconteremo I retroscena Scandalosi Del governo Draghi Ah del governo Draghi Mi voceva comprare Dei pannolini Alla figlia di Franz No Compriamo No io ho da comprare Anche Allora Intanto ho visto che C'era una domanda Abbastanza Eh dov'è Moxie ti spacco la faccia Sono serio eh Non è mia nale Buffone sei te Faccia di merda Lo stronzo Lo butti fuori Sto stronzo di Moxie Lo butti fuori Il pesciere Fuori dal cazzo Non so come si faccia Però faccio prima Buttar fuori Me lo devi puffà Basta 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 Fui buono Se mi provo Non mi incazzo però Come mi incazzo mai Allora 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 A meno che non si parli di Van Gamby Esatto Di Van Gamby E di Moxie Quello stronzo Basta Che quello stronzo Di Moxie Free Moxie Free Moxie No Allora C'era una domanda Su Che spesso C'è che ho letto prima Sui Detroit Pistons Però io francamente Non ho niente da dire Sui Detroit Pistons Se non che fanno Veramente pietà E Tra l'altro Derek Rose È Uno tra i papabili Per il buyout E spero Francamente Che lo eserciti Cioè che comunque Trovi un accordo Per uscire Da quella Da quella situazione E C'erano delle domande Sui San Antonio Spurs Ad esempio Spurs L'ho messa Tra le squadre Sorpresa Perché io Francamente Non pensavo Potessero Addirittura Essere In piena zona Playoff Opinioni Sugli Spurs Hanno Ricostruito In Pochi mesi Un core Che può portarle Di nuovo Playoff Secondo me No Però Non lo so Se quest'anno Ci arrivano Ma Hanno più Hanno meno Secondo me Il grande problema De l'Espurs È il lungo termine Sul breve Finché hanno Aldridge E De Rosan Caldon Johnson Sta giocando bene Però L'altro giorno L'altro giorno Ma settimana scorsa Freddo Ho detto a Freddo Che secondo me Gli Spurs Erano una delle squadre Peggiori Sul lungo termine Perché secondo me Tutti i giovani Che hanno Sono buoni Sono gregari I giocatori Che fanno gruppo Ma nessuno di loro Diventerà una stella Un giocatore Intorno a cui costruire E quindi E quindi Li vedo Sul lungo termine Molto a rischio Perché Aldridge E De Rosan Se ne andranno Magari De Rosan Rimane Però Secondo voi Qualcuno Dei giovani Non lo so Caldon Johnson De Yontem Murray Derrick White È in grado Di prendersi il ruolo Da stella Di una squadra Che lotta Per i playoff Io non penso Io non penso proprio Quindi per questo A meno che non fanno Qualche grosso acquisto Sarebbe Il ritorno Di Kawhi Leonard Deve venire da noi Kawhi Adesso da oggi Mi sia la mia campagna Per far venire Kawhi ai Rockers Ti ferò contro i Clippers Ogni partita Perché penso Dipende da quello Se rimarrà o no Sì più o meno Sì penso Anch'io Tifo contro i Clippers Ogni partita Quindi dai Forza Hawaii Agli Spurs Abbiamo un passato Come hater Dei Clippers Mica male Cazzo Ci abbiamo fatto il successo A Faman di Clippers Ma mi si sente Perché io mi vedo scattoso Non so Vedete la gara Anche ogni tanto Mi vedo scattoso Più Piutore Però ti si sente Eh no Sì ma perché sono Nella stanza di sopra Mi sa che C'ho la connessione Mi prende po' Comunque concordo Con Fede Sugli Spurs Cioè secondo me È chiaramente Un foo di paglia Nel senso Non c'è C'è buoni giocatori Buon contorno Ma ragazzi Cioè di star Che sono disposti Ad andare a San Antonio Secondo me ce n'è pochissima E quindi Il casino Per loro È quello Poi soprattutto Si torna lì Cioè Il sistema Popovic È un sistema complicato Cioè finché c'è lui Rinnovare veramente È difficile E quindi Non lo so Cioè sono ottimi giocatori Per il sistema Popovic Lui li sa gestire Li crea O quantomeno Gli dà importanza Però insomma Da qui a dire Magari Con i play-in Entrano Ci mancherebbe altro O magari fanno la sorpresa Arrivano ottavi O settimi Però insomma La strada è ancora lunghina Dicono meglio Memphis degli Spurs In un certo senso Sì perché Memphis ha comunque già La stella Di riferimento Quello che Come dice Fede Probabilmente Gli Spurs Non hanno Ed è difficile Che poi un free agent Scelga San Antonio Come piazza Diciamocelo Franz Mi permetto di Correggerti Proprio col cuore Ti dico Le stelle Perché io Ho un amore Per Jaren Jackson Junior Che ancora Non si è rivelato All'altezza Del suo potenziale Però se questo Si mette un po' A lavorare Cioè Tira col 40% Da 3 È uno dei migliori difensori Soprattutto sotto canestro È veloce È mobile È capace Di appunto Di tirare da 3 Di muoversi bene in campo Quindi non so esattamente Perché non ancora Non stia Raggiungendo quel livello Però può farlo Al momento non sta giocando Quindi aspettiamo Che rientri Tra l'altro Doveva rientrare In teoria Per febbraio Dopodiché Adesso Non si sa ancora nulla Tra l'altro ragazzi Non so se lo avete detto prima Ma Si legge Di Ola Dippo Presto via da Houston E di differenti Se ne abbiamo parlato Una roba bizzarra Veramente Eh si vede Che lui ha già detto Che non vuole rinnovare Lì Alla fine Sta che Houston Provi a monetizzare Tra l'altro Tipo leggevo Scusami Fede Non so se poi L'avete detto prima Però leggevo La possibilità Di Ola Dippo A New York Che a me onestamente Piacerebbe anche Però nella trade Ho visto Hanno rinserito Il buon Danny Smith Come si chiama Quello doveva essere Esatto Cioè Quello doveva essere Una promessa Ai tempi Di Dallas Che è sparito Un uomo Dove cazzo è Cioè Pazzesco Quando giocava a Dallas Aveva fatto Aveva fatto bene E solo che poi L'ha narrato via Perché a quanto pare A Doncic Non gli stava Troppo simpatico Perché li toglieva Palloni O in campo Non si trovavano bene E poi è sparito Ma io non so Cosa possano darci Nix in cambio Per Ola Dippo Non penso che ci diano Randall Perché se Penso che Ola Dippo Vada lì Solo su Previa promessa Che Randall Rimane Perché non vuole ritrovarsi Solo Lì a New York Ho letto Ho letto Obi Toppin Che non sarebbe male Per Ola Dippo Non sarebbe male No vabbè Però sai Se parti dal presupposto Che Ola Dippo Non resterà Cioè Obi Toppin Comunque Sostanzialmente Ancora non si è visto Perché si è rotto subito Lo stanno usando Col contagocce Magari Potrebbe anche Rivelarsi poi Una stile O qualcosa del genere È una scommessa Magari ti prendi Danny Smith E Ola Dippo Scommessona L'altro Io Ai tempi Dallas Lo vedevo come una sorta Di stile Franchise Della nuova era Poi non si è rivelato tale Quindi Ma scusa ma Se ci inserissero Un Mitchell Robinson Oltre a Obi Toppin Lo prenderesti subito Sono Matti Nix E io Mitchell Robinson Non me lo tolgo mai Eh però ragazzi Non è che stia Avendo così tanto Spazio Con Con Tibodo Sinceramente Cioè alla fine Sì No dico strano Perché alla fine Tibodo È uno molto difensivo E Mitchell Robinson È tra i difensori Migliori della Lega Però In attacco È super limitato Ancora Robinson Cioè A parte Non ha un tiro Praticamente Perché è molto lungo E a parte Essere Fare spaziature verticali E schiacciare Prendere i lobby E i passaggi Stando nel dunker spot Dovrebbe un po' Migliorarsi In quel senso Praticamente Beh Simmons No Non dirmi così Che mi sento male Allora RJ Barrett A Houston Con Wood Super Team È RJ Barrett Ma non credo Che i Nix Siano così Sprovveduti Insomma Però Scambio secco Barrett O la Dippo Magari Barrett Potrebbe mancare insieme Cioè io se sono i Nix Barrett E Robinson Non mi ritolgo Cioè sono Non ti voglio dire la base Però sì Sono la base Per Per un futuro Loro Quickly Insomma anche stasera Hanno vinto Tipo alle sette Insomma Alla partita Al matinee Ragazzi Io li vedevo molto 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 più scandalosi Di quanto si stanno dimostrando A inizio stagione Quindi nel senso Fossi loro ripartirei A questo punto Da un core Cioè lo sceglierei Questo core Ora magari Effettivamente Hobbit Hoppin Per quel poco Che si è visto fino ad ora Da questo core È abbastanza fuori Perché non hanno avuto Il tempo di provarlo Forse perché Non è Non è adatto A quello Che è il presunto Sistema Tibodo Non ne ho la più Palla idea Perché a questo punto Domandiamoci qual è Però nel senso Io fossi Nix Sceglierei Chi è sacrificabile Di questo core Magari Hobbit Hoppin E però il core Me lo terrei A questo punto Perché una volta È come i Kevs No? Una volta che ti sei beccato Tre o quattro giovani Che funzionano Cioè Cieli Eh che cazzo Se no Allora Ci sono diverse domande Sugli Atlanta Ox Perché c'è Questa Poi c'è questa Poi c'è questa Quindi Parliamo degli Atlanta Ox A questo punto Io Sinceramente Li avevo messi Nella metà bassa Tipo play-in Ad est Perché continuo A ritenere Tra i young Non Un giocatore Che può Portarti Nell'Olimpo Della NBA Cosa che invece Ritenevo essere Donchic Ma evidentemente Mi sbaglio Visto quello Che sta facendo Dallas Atlanta Per me Ho detto inizio anno Cercherà di dar via John Collins Prima della fine Della stagione Perché è in scadenza E perché non hanno La minima intenzione Secondo me di dargli Tutti i soldi che chiede John Collins John Collins Magari Boh A Houston Magari Magari Cazzo Sì Concordo Fossi un tifoso Dei Rockets Subito Magari Cosa Cosa a caspita Si sono presi a fare Region Rondo Per farlo giocare Veramente degli scampoli Di partita Così Visto che non hanno Chiare velleità Di andare avanti Ai playoff O di andare massimo Oltre il primo turno Perché dove vuoi andare John Collins Paradossalmente È quello che secondo me Sta performando meglio Quindi pensare di dover Dar via lui Per quanto Meglio gioca E più facilmente Hai una ottima Contropartita Però io sinceramente Mi sembra uno spreco Dannato Quindi ci dobbiamo Domandare Cosa cavolo Hanno preso a fare Gallinari Perché a mio avviso Ora magari Ci smentisce Si è fatto male Rientra Però a mio avviso Non c'entra assolutamente niente Io non sono negativo Su Trey Young Come lo è Franz Chiaramente Dallas ha scommesso Su Trey Young Poi c'è anche la faccenda Dello scambio tra Trey Young E Donchic Nel senso Se non te lo tieni Trey Young E non ci costruisci La franchigia intorno Se pensi che l'hai scambiato Per un home e Donchic Fai una figura Di merda Gigantesca Quindi a questo punto Loro ci devono scommettere Per forza Perché altrimenti Come possono giustificare Lo scambio fatto In serie di draft Quindi Trey Young È la base Del tutto Cappellano Un malaccio Tutto intorno Si è detto mille volte Ci sono giocatori Di sistema funzionali E dignitosi Come Reddish Eurter Eccetera Si torna lì Secondo me hanno Toppato completamente La campagna acquisti Chiamiamola così Insomma Il pre-stagione Gli acquisti presi Perché Gallinari Non c'entra niente Se hai Collins A meno che Collins E Young Non si possano vedere Cosa ci sta Bogdanovic Si è rotto Bogdanovic Si è rotto E comunque Ma Cioè nel senso L'avrei visto molto meglio I Bucks Per come sembrava Dovesse andare E Rondo Ragazzi Che cavolo Lo paghi a fare Per farlo giocare Tipo Dieci minuti a partita O sì A fare una sgambatina Non lo so Quindi Io in realtà Avevo Avevo molta stima Degli Ox Prima della stagione Secondo me L'errore che hanno fatto È stato troppo Provare a Vincere subito A buttarsi troppo Su la campagna acquisti Prendi Prendi Tutto quello che c'è sul mercato Gallinari Rondo Senza troppo senso Se avessero aspettato Un altro po' La squadra di base Era molto buona Young e giovane C'erano un sacco di giovani Young, Reddish Hurter Come si chiama Hunter Capella era stato Un grande acquisto Sta giocando molto bene Collins è giovane E si trovava bene Con Young La squadra ce l'avevano L'errore che hanno fatto È stato Cercare di dire Ok Cerchiamo di essere Secondo me Loro inizio stagione Volevano essere Una contender A Est Perché Bogdanovic È una giunta Quelle aggiunte lì Sono aggiunte È un po' quello che ha fatto Philadelphia Quando si è buttata Su Butler Harris Tutto nella stessa off-season Ha dato via Tutti i suoi Saric Covington Reddick L'ha tenuto Però tutti gli role player Per vincere subito Avrebbero dovuto Aspettare E hanno messo insieme Un sacco di talento Che però Non Ha una Grande chimica Devono gestirla bene Adesso la situazione Perché i loro prossimi Cinque anni Dipendono molto Da cosa fanno adesso Cioè è una situazione Delicata Tenere Andare via Secondo me Se danno via Collins Gallinari se lo tengono E potrebbero Cacciare fuori Da questa situazione Una bella squadra Con tanto futuro O Sbagliare Io Terrei Young Terrei due giovani Hunter e Reddish E dare via Rondo Dare via Collins In realtà basta Hanno preso anche Chris Dunn Che io pensavo Potesse Essere Utile Ma non gioca mai Per la difesa È incredibile Hanno una squadra Molto lunga Una squadra che Secondo me Non era neanche Costruita malissimo Ci hanno messo Forse un po' Troppo talento Per vincere Adesso devono Uscirne Bene Per Per poi Vincere Veramente Non si sono Fortuni Anche perché poi Cioè scusate Ma anche Chris Dunn Cioè come lo Come lo utilizzi Cioè lo potevi utilizzare Come cambio di Tre Young Come potevi utilizzarlo Ma dal momento È per la difesa D'accordo Ma dal momento Che prendi Rondo Cioè nel senso Hanno preso un botto Di doppioni Cioè nella volontà Probabilmente Come dicevi te Giustamente Fede Di volere aggregare Il più possibile Di quello che era A disposizione Cioè boh Hanno fatto una roba Disfunzionalissima Con quanto ripeto Che l'asse Young Capella Secondo me È perfetta Nel senso Ma infatti si vede Anche quando giocano Insieme Che funzionano Mi dispiace Per Non lo so Per 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 Rondo Da un certo punto di vista Perché io L'ho sempre detto Avrebbe potuto Andare a giocare Da altre parti Volendo I Clippers Ovunque Denver Non ho la più Palla idea E magari puntare A ritornare Non dico Dove era Dove era finito La regione scorsa Però qualcosa di simile Lì non serve veramente a niente Cioè è veramente Una fine ingloriosa Secondo me Di un grande giocatore Cioè andare a rubare Uno stipendio A Atlanta Perché di fatto È questo che fa E lui ne è totalmente Consciente Consapevole Forse ne era cosciente Quando ha firmato Ha detto Ok ecco gli scemi Vado a rubargli I soldi Che i Lakers Non mi danno Perché mi ritengono Un vecchio Quale sono Tra l'altro Io non so che pensate Di Lloyd Pierce Però secondo me C'è anche un po' Di responsabilità Del coach Perché Stanno facendo Veramente tanto male Rispetto a quello che Cioè ci sta All'aspettative All'aspettative Lì ci sta anche La mano del coach Nel basket Si dà sempre Meno responsabilità Secondo me All'allenatore Di quanto non si Non si dovrebbe Sempre il fit Che non va Se la chimica Di squadra Non va I giocatori Non si trovano La colpa È più del coach Che di altro Perché quello È il suo ruolo Alla fine Cioè farli giocare In campo Poi magari Ha sbagliato La dirigenza Però Sì Sono d'accordo C'è un concorso Di colpe Nel senso Colpe poi Staremo a vedere Nel senso che Sono sesti Mi pare Adesso Ad est Però è anche vero Sì Però è anche vero Che ad est Sono inferiori Nettamente inferiori A tutte le squadre Che stanno davanti Cioè Sì Poi tra l'altro Perdono tre partite Cioè perdono tre partite E li passa Quattro squadre Nel senso Ce n'è Quattro cinque Se non mi sbaglio Sono tre Però ne vincono tre E tornano su Questo c'è da dire Esatto Però una cosa Che hai detto benissimo Fede È il discorso Lloyd Pierce Cioè Non ne parla nessuno Proprio nessuno Nessuno sa manco Tra poi Lui e l'allenatore E questo è un problema Vuol dire Sta allenando di merda E il fatto Che la squadra Appaia scollegata In campo Probabilmente Per gran parte È anche una sua responsabilità Perché se sono veri Le problematiche Tra Tra L'aviatore John Collins E Tra Young Beh Delle responsabilità Sulla gestione Dello spogliatoio Ce l'ha anche L'allenatore Vedi Clippers Dello scorso anno Tanto per dirne una Quindi voglio dire Concordo con te Probabilmente Però sai che Nel calcio in Italia È diverso Si pensa subito Al problema allenatore Perché apparentemente È la cosa più semplice Da cambiare Nell'ambiente Non è così facile Secondo me Cambiare allenatori Anche perché Non sai quante Ne ha a disposizione Soprattutto quelli buoni A disposizione Raramente ci sono Oppure magari Quelli buoni Sono quelli Che nel momento Stanno a fare i telecronisti Per ESPN O roba del genere In diretta Non hanno voglia Di andare a prendersi Una pega Come può essere Andare a fare una figuraccia In una situazione Come Atalanta E ha speso così tanto E poi Magari a livello Di valori Scusami Tore Devo aprire la porta Perché il gatto La sta graffiando Un attimo Vai vai Io Io penso Che debbano avere pazienza Ci sono due modi Secondo me Per formare una squadra Da titolo O fai un'unica Campagna acquisti Fatta benissimo Come hanno fatto i Lakers Che hanno preso Davis Quest'anno Poi hanno preso R Hanno aggiunto Però i Lakers Sono passati in un anno Con la 3D Davis Essere una squadra Che non ha fatto i playoff A una squadra Che ha vinto L'anello L'altro modo È avere pazienza Vi faccio un esempio I Bucks Sono rimasti Su Antetokump E Middleton Per 5-6 anni Non hanno mai Premuto Panic Button E buttato tutto Su una campagna Acquisti unica Gli Oks Gli Oks Devono avere pazienza Adesso se danno via Collins Un quintetto Young Reddish Non lo so Werther No Young Sì Werther Gallinari E Capella Con Gallinari Dalla Grande Funziona Non ci vinci adesso Di fare come hanno fatto I Bucks Come hanno fatto Tante franchigie Avere pazienza Aspettare L'occasione giusta Non lo so Il free agent Che si libera E così Fai il passo in avanti È inutile Ce l'hanno la squadra Questo dico Vedi però Secondo me Te da un Collins Potresti prendere O un ottimo giocatore Oppure una serie Di due Tre buoni giocatori Oppure due buoni giocatori Scelte Però Secondo me Siccome Tante buoni giocatori Per contorno E per volume Ce l'ha già Il problema di dar via Collins È che dovresti prendere Non ti compare i valori A livello proprio effettivo In un ruolo differente Ma qualcosa di simile Bisogna vedere un po' Chi è che ce li ha A disposizione Dei buoni giocatori Che possono Alla parte Effettivamente Non è Non è Non sarebbe Buttata proprio fuori Come Come ipotesi Effettivamente Sarebbe 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 Molto quadrato Anche per gli Ox Sì sì Assolutamente Sarebbe win-win Assolutamente Per cui Magari ci stanno pensando Non lo so Prima scorrevo Quest'articolo Che tra l'altro Era Sul sito di Sky Dove c'erano Le potenziali trade Per Oladipo Non mi ricordo Se c'era Quella sua Atalanta Cioè Atalanta E quindi Collins Per Oladipo Dovrei ricontrollare Però secondo me È una roba che ci sta Assolutamente Non so come funziona Con i salari E quindi Se si incastrano Gli stipendi Però Ci potrebbe stare Ci potrebbe stare Beh Credo Oddio Non lo so Bisognerebbe verificare Perché poi in realtà Non se sa Non se sa Allora Io se provo a verifiare Mi si blocca Il computer Perché c'è una connessione minima Si vede Tra le strade Esplode Esplode Eh cazzo Troppo ragazzi Questa è la qualità Io ho Ah ok Vabbè Ho la piccola che piange Il gatto che graffia la porta Quindi Non vorrei Non vorrei Chiudere la live Perché in realtà Siamo a 250 Però magari Si può riproporre Nelle prossime settimane Senza problemi Assolutamente Tanto Sì Qua siamo Siamo sempre noi Alla fine Allora Fossi Houston Glielo porterai in spalla O la di Popper Collins Che ne dite di Atlanta Nel senso che Hanno i pezzi E la situazione Bradley Bill Eh Bradley Bill Per esempio Se tu butti sul piatto Collins Uno tra Reddy Shunter Werther O Kong Vu E compagnia cantante Why not Ma per Bradley Bill Li puoi buttare tutti Proprio tutti Cam Werther Chi ti pare Cioè se prendi Bradley Bill E' uno di quei giocatori Come diceva Fede Come può essere stato Anthony Davis Per i Lakers E al momento che arriva Ti va a rivoluzionare Proprio tutto Quindi io Bradley Bill Per Bradley Bill Se ci fosse la possibilità Fosse Atlanta Andrei all in A questo punto Anche se poi Quando ti rientra Bogdanovic Non lo so Come funziona Cioè poi ce n'hai un po' troppi Anche lì Temerei che Sia un po' Lo stesso errore Che hanno fatto Questa estate Nel senso Schermey Bill Non è proprio Quello di cui Hanno bisogno Cioè Se potessero Scegliere Fra qualsiasi Stella Diciamo Bradley Bill Sarebbe una delle ultime scelte Perché lui porta Tanto attacco E di attacco Ne hanno pure troppo E molta poca difesa Non vorrei che fosse Una mossa Alla Sfruttiamo i giocatori Che abbiamo adesso Siamo forti Proviamo a vincere Che poi si rivela Come quelle di questa estate Che Con Diciamo Con mente postera Dici Si poteva prevedere Che diciamo C'è tanto Young e Bill Forse si pesterebbero Un po' i piedi a vicenda Entrambi attaccano tanto Tengono tanto la palla in mano Tirano tanto Difendono poco Capella rimarrebbe L'unico vero difensore In quintetto Quindi Non lo so Dipende da loro Quanto si fidano Che Bill Si possa sposare Perché se non si sposa Allora lì Hai veramente Se firmi a Bill Ha un contratto a lungo termine Ti sei Ti sei legato Le mani da solo Quindi non lo so Io aspetterei Pazienterei Magari per quest'anno Si vai play a face C'è il primo turno E vediamo in estate Eh Però Però sarebbe suggestivo Sì assolutamente Però quello è Capito Che è molto suggestivo Quindi facciamolo Sono forti Il gioco delle carte Due due stelle Vinciamo E poi in realtà Si rivela che in campo Quello è l'errore Secondo me Intanto Mi ha riferito La donna Che la piccola Si è calmata Quindi Potrei Potrei riuscire A rimanere Un pochettino di più No Allora 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 Altranto Mentre te pensi Pensi alla domanda Volevo dire Siccome rompano il cazzo Qua con sta storia Di MB Week Io Ho cambiato Le password Del canale YouTube Quindi se mi gira Tipo io giovedì Vado anche in live Poi magari Una roba molto Scorretta Dove si potrà Bestemmiare Offendere Fare tutte le cose Più schifose Su YouTube Italia Non si possono fare Però bisogna Abbia voglia Quindi Ecco Se voi trovate In modo Di fare delle donazioni Al live Spenta Il canale Ecco Per 100 euro Next Vabbè Insomma Chiaramente ragazzi Vi devo avvisare Che se voi donate Due euro A me arrivano Tipo 50 centesimi 60 centesimi Quindi Se dovete donare 100 euro In realtà Dovreste donarne 250 Ecco Era solo Per chiarire La cosa Va bene 250 Fittizi Centonetti Centonetti Allora E Aspetta Mi ero ribeccato Vabbè Mi sono iniziata Kings Nuggets Yes Non la fanno Su Skype Sì La fanno su Skype Mi sa Ma tanti primi Due quarti Fanno cagare Io l'ultima volta Che sono stato in live Domenica scorsa C'erano i Nuggets E ho detto I primi due quarti Fanno cagare Yoki ci ha fatto 22 punti Esatto No 30 Forse 22 Nel primo quarto Sì Nel primo quarto E un ragazzo Sincero Mi ha scritto Guarda che Yoki Sta facendo Devast Sono andato a vedere Effettivamente Quindi potrebbe Io un occhio Ce lo tengo Vi avverto Se succede qualcosa Di clamoroso Perfetto Perché io In contempo Non lo posso vedere Forza for Nilsap Che l'ho messo In panchina Al Dunker Visto che durante Ma cosa fai Mazzu serio Punti su Paul Nilsap Cioè ragazzi No io in realtà Avrei Bogdanovic Che è infortunato Marcanen gioca E non gioca Me lo dava giallo L'app E quindi Ho giocato Gioco sempre Con uno due di meno Perché ho Durant Che è stato un sacco fuori Questi due Bogdanovic Fra un po' Lo trincollerò Perché è rotto Da un sacco di tempo E quindi Ho dovuto Metterlo come ultimo Panchinaro Nilsap Tra l'altro Ero curiosissimo Di vederla A sta partita Perché io I Kings Quest'anno Non li ho mai visti Ero curioso Di vedere Perché vedo Parte in quintetto Marvin Bagley Un altro Bastone Di Eli Proprio pessimi E quindi ero curioso Di vederlo Dopo lo guardo Marvin Bagley È quello che il padre Ha detto tipo Che i Kings Sono dei deficienti E fondamentalmente Il padre è comunque intelligente In effetti È una delle cose più sensate Ho sentito Nel prossimo momento C'è la guerra dei padri Tra quello di Fox E quello di Marvin Bagley Mamma mia Non ci vuole Non ci vuole troppo Diciamo Mentalità C'è l'intelligenza Cestistica superiore Per capire che i Kings Fanno cagare Eppure ragazzo mio Sono lì Sì sì No no Il problema è che Da quanto tempo Non sono i Kings La Franchigia Che non fai il playoff Da una roba tipo 15 anni Non sono loro Che loro hanno il record Mi sa In questo momento Sono una squadra Che tipo da Weber Non fanno Le playoff Credo di sì Da quella finale Sì derubati ragazzi Derubati Esatto Da quella finale Di cui furono derubati Stanno ancora soffrendo Le conseguenze Tra l'altro sono usciti In tre gare Sette consecutive In quegli anni lì Ma no È proprio È una mazzata Dietro l'altra Tra l'altro penso Anche l'unica era D'oro Nella storia Della franchigia Almeno a Sacramento Perché Non li ricordo Precedentemente Dignitosi Se non un primo turno Tipo Con Mitch Richmond Gente tipo Olden Polinis Gente così Che impensierino I Sonics Ma Una vita fa Per noi vecchiacci Forse Eh sì Dite due parole Su Damiano Avrà mai una possibilità Di vincere A Portland Se va via Sì No Comunque Sono d'accordo contore La lealtà Non è sempre Un'ottima cosa Anche Bill Sta dimostrando Che continua A dire Che vuole rimanere A Washington Poi sì Sono persone Non solo giocatori E quindi Ci hanno Le loro amici Le loro realtà Però alla fine Devi scegliere Uno dei due Quindi se vuoi Se vuoi vincere Un po' Devi sacrificare Quell'aspetto là E se invece Diciamo Dai priorità Alla tua vita Extra cestistica Non puoi lamentarti Che perdi Secondo me All'Illard Interessa vincere Tripla di Millsap Così Olè Olè Comunque Secondo me All'Illard Un po' Interessa vincere Quindi Penso che Però se ne Devi andare Da Portland Anche perché Secondo me McCollum Non è Non è Il miglior Il miglior Deve Sacrificare Per portare Qualcuno A Portland Cioè Se facessero Un bel pacchettino Con McCollum Con Nurkic Zach Collins Tutta la gente Che hanno Che è più Infortunata Che altro E riuscissero A buttare Dentro Non so Chi Però Un Anthony Davis Molto forte Esatto Devis Siokic Questi qua Sono d'accordo Io Però ragazzi È una roba tristissima Se ci pensate Perché Cioè È chiaro che Lillard Per vincere qualcosa Cosa deve andare via Cioè Purtroppo Questa è l'NBA Però Di contro È bello Pensare Alla lealtà Di Lillard In una città Come Portland In una squadra Come i Blazers Che Che magari Ci sono andati Tante volte Tanto vicini In epoche Anche diverse E che se lo meriterebbero Da un certo punto di vista Però purtroppo Cioè È indiscutibile Che più di così Come fai Che gli costruisci attorno Cioè Vi ho detto bene Magari provando a sacrificare McCallum Ma McCallum Per quanto sia fortissimo Secondo me Non ha quello status Per cui Se te lo metti sul mercato Ti danno una superstar Che magari è quella perfetta Che serve a Lillard Per completare l'opera Cioè Purtroppo La sensazione è che Portland Più di questo Non potrà arrivare ad essere E È triste pensare Che Lillard Sia costretto Ad andare via Per vincere Perché poi magari Ti trovi costretto A fare robe Tipo Malone A fine della carriera Cioè Te ne vai Lakers Convinto di vincere E poi è l'anno De 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 Grado Totale Capito Cioè È una roba tristissima E secondo me Toccherà anche a Giannis Lo stesso Lo stesso problema Visto Con quanti O quanti soldi ha preso E quanto si è legato A A Milwaukee Però è la stessa Secondo me Identica situazione È una roba triste Perché le bandiere Almeno per noi italiani Abituate al calcio Sì Sono una roba Sempre da portare Così altissima Però Io ti aggiungo Che non sono Un Assolutamente Un fan E non penso che Che ci siamo fatta Per gli Splash Bros Penso che sia molto Difficile vincere Con un duo Con le due stelle Guardie Esatto Che sono guardie L'ho visto Andare molto vicini Arden e Chris Paul Ahimè È ancora È ancora È una ferita Aperta Per il resto Io sono convinto Che guardie Tipo Lillard Tipo Arden Abbiano il loro Matrimonio perfetto Con centri O lunghi In grado di dargli Un'alternativa Se io ho sempre Sostenuto che Arden Andava copiato Non con i Chris Paul Non con i Russell West Ma con appunto Gli Anthony Davis I Joel Embiid Perché Come gioco Come azioni Proprio Si puoi costruire Molto di più E in più Quando Quando I Arden O i Lillard Sono in serata No Hai qualcuno A cui dare la palla Sotto E Però deve essere Forte Deve essere Forte Forte Sì Però Quello è il duo Alla fine Lebron Lebron Davis Funziona per quello Perché Lebron gioca Da guardia Quasi Per Per lasciare spazio A Anthony Davis E Il duo Playmaker Che tira un po' Di meno E che Fa Gestisce più il pallone Che fa tanti assist E Centro lungo Dominante Sotto canestro In quest'era Soprattutto Col talento Di tirare Di aprire il campo Funziona Per quello Grizzlies Io dico due stelle Perché se Se crescono insieme Morante E Jaron Jackson Junior Possono Diventare I prossimi Però a questo punto C'è Una domanda E sorge spontanea Cioè In un mondo Perfetto Quale sarebbe Il fit Ideale Per Lillard Che magari Arrivando a Portland In questo momento Trasforma i Blazers In una reale Contender Secondo voi Un giocatore Sparato A caso Io ci vedo Sempre bene Un lungo Jokic Io dico Jokic Alla fine i nomi Sono quelli Dei lunghi Io non so se Jokic O Embiid Embiid ti dà anche difesa Jokic Ma io Sì Ci può stare Ci può stare Diciamo che Davis Oggi hanno detto Una statistica Tanto scusatemi Accarezzo il letto Per non farmi Agolare il gatto Cioè Non ha senso Tutto ciò Però Che dovete credermi Oggi hanno detto Una statistica Su Davis Cioè Che In questa stagione Mi pare Abbia giocato Un totale di 40 minuti Numero 5 E i Lakers Abbiano un differenziale Di punti Di più 40 In quei 40 minuti Cioè Vuol dire Che se Anthony Davis Gioca da centro I Lakers Non vincono Sono Ingiocabili Ingiocabili Se solo lo accettasse È lui che non vuole Mannaggia lui Aggiungo C'è il tifoso Lakers qua Cosa dici Tore No Per me Va bene fare Qualsiasi cosa Voglia Anthony Davis Non me ne frega nulla Se lui è contento Io sono contento Se lui è contento Si vince Non c'è problema Tra l'altro io sono Un amante di Gasol Proprio A 360 gradi Quindi per quanto Chiaramente sia vecchio E magari appaia un po' Senza fiato Sono convinto Che sarà decisivo Nella Nella corsa playoff Quindi ho piena fiducia Nella Nel Davis 4 Se vuole essere 4 Se vuole giocare 5 Meglio Ma è uguale Abbiamo il roster forte La mia paura De Lakers È soltanto Che la consapevolezza Di essere così forti Li porti a fare qualche errore Di troppo Perché al risparmio energetico Poi magari Ti prendi un'imbarcata E dopo la partita Non la recuperi Oppure la perdi All'ultimo tiro Come è successo A Filadelfia O rischi di perderla All'ultima azione Come è successo A Boston Che hanno vinto Per miracolo Anzi Per il recupero di Caruso Su Jalen Brown Che giocatore Che roba assurda Davvero Partita bellissima Mi sono alzato alle 4 Per vederla Mi sono addormentato Sul divano Fino a 6 minuti Dalla fine Mi sono svegliato Avevo il gatto E mi dormiva qui E però ho visto la fine Bestemmiato Anche come un turco Perché Stavano per perdere Diobono A due minuti alla fine Praticamente era vinta Cioè Una roba assurda Io ho fatto il punto Secondo me Una cosa Quando i Lakers Ormai due stagioni fa Hanno firmato Dwight Howard Oltre a McGee e Davis Io ho pensato Che secondo me Se Davis accettasse Di giocare la 5 Al posto di aggiungere Un terzo centro Come adesso ci sono Anche Gasol e Errell Sarebbe Secondo me sarebbero Devastanti se Davis da 5 Secondo centro Che sarebbe oggi Errell L'anno scorso McGee Al posto del Dwight Howard E Gasol in più Uno stretch four Un Davis Bertans Uno che ne mette Mette triple col 40% Ti rende offensivamente Ingestibile Perché Davis lo sa fare Ma non a quel livello E non fa solo quello Ti aggiunge Un tiratore in più Rende veramente Questo duo Immarcabile Perché Con le spaziature Adesso quando ci sono Davis e Gasol In campo Secondo me è l'unica cosa Che ancora In attacco Rallenta un po' I Lakers Si aggiungono Un Bertans Un quattro In grado di tirare Col 38 40% La tre Se Davis accetta A rigiocare da 5 Il differenziale Di 40 punti A partita Non è Realtà Però secondo me Il problema È che Davis Se non ha giocato Da 5 La scorsa tornata Dei playoff Che poi sembra Una vita fa Ma era tre mesi fa Non lo giochera più Io secondo me Lui lo scorso anno Io ero uno di quelli Che pronosticava Che prima o poi Quando le cose sarebbero Servite O comunque sarebbe stato Il momento decisivo Davis avrebbe accettato Di fare il 5 Non l'ha mai fatto Neanche durante i playoff Quindi a quel punto là Secondo me È proprio una roba Che lui esclude Al 100% E quindi bisogna E il fatto che poi Lakers sul mercato In estate Si siano mossi Scambiando i due centri Che avevano Dietro Davis In teoria Con altri due centri Che staranno In teoria dietro Davis Ma uno dei due Gioca era sempre accanto a lui Significa secondo me Che lui proprio Non ha intenzione Di fare i 5 Quindi va preso In questo modo qui Essendo poi Un profetto di James Praticamente Scusami Franza Chiudo Può fare quel caso Che ti pare Perché James fa quel cazzo Che gli pare Ha già detto a tutti Io faccio quel cazzo Che mi pare E il mio amico Anthony Davis Fa lo stesso Perché è il mio protetto Quindi Loro due possono andare lì Possono anche andare in campo Senza mutande E fare Che ne so L'aeroplano Messi di scelericotte Insomma Girarsi Gli uccello Gli lo fanno fare No tra l'altro Secondo me È lo stessa cosa Che dovrebbe fare Gianni Samiluoki Cioè giocare da 5 Quando conta E invece c'è sempre Quel pippone Di Brooke Lopez Evidentemente Ha uno status Incredibile Per Aspetta Perché Secondo voi Cioè non vogliono più Giocare da 5 Questi giocatori qua Cioè giocatori che in altre epoche Avrebbero accettato tranquillamente Di stare sotto a Nestro A far sportellato Ora È vero che fisicamente Vanno a scontrarsi Con pari ruolo Che sono Dei mostri Mi immagino Uno scontro Con Embiid Sia una roba Che ti lascia Altro che Lividi E dolori Addosso Però perché Non capisco perché Un Giannis E un Anthony Davis Lo rifiutino proprio a priori Anche mettendo in difficoltà La squadra In certi contesti Mi viene in mente Più Giannis Di Anthony Davis Il discorso è quello È una roba senza senso Secondo me A Dallas Dicevano Io non lo vedevo così bene Perché Giannis Softball Cioè Con un altro Playmaker Come Donci Che tiene tanto il pallone Non ci sa giocare Perché Post up Magari post basso Lo può fare perché È molto fisico Però non ha Un tiro Affidabile Nella trenna Da media distanza Non ha Non ha un fade away Lontano dalla palla Può fare i pick and roll Poco altro Quindi Per essere così efficace Deve Deve partire con la palla Che è però il motivo Per cui ha perso Tanti playoff Perché alla fine Giannis L'hanno battuto Facendogli il muro davanti Lui ci andava a sbattere Siccome non è Quel Quel palleggiatore Non ha quel dribbling E quella visione Per superare quel muro là È un limite Che lui deve sistemare Deve aggiustare il tiro E E accettare di non partire E accettare di non partire Con la palla in mano Questo è secondo me Che vogliono tanto la palla E da 5 In questa NBA È molto meno Cioè L'allenatore preferisce Molto di più Che Davis Faccia un pick and pop E si prenda la triple Che si metta in post E dia Dieci spallate E si prenda il fade away Perché statisticamente Analyticamente È un tiro migliore E la statistica E l'analitica Conta tantissimo Mortacci Verissimo Però io su Giannis Dico una cosa sola Nel senso Se si tratta di un giocatore Che comunque deve Migliorare il suo gioco Per forza Perché comunque Un giocatore sempre Dovrebbe essere sempre In evoluzione E il gioco L'ha migliorato tanto E si sa A che livello è arrivato Due volte MVP di file Eccetera eccetera Bisognerebbe iniziarsi A lavorare Su quello che giustamente Te dici Che è carente Nel senso Il gioco sotto anestro Il gioco anche da 5 Anche perché Non si resta Giovani Atletici E con quel primo passo Mortale Quelle gambe lunghissime A vita Nel senso A mano che la sua carriera Andrà avanti Dovrà anche un attimino Iniziare a capire Che non si può vivere Di solo atletismo E di solo esplosività Per cui In un modo o nell'altro Che sia migliorarsi nel tiro E quindi costruirsi Un jumper sicuro O che sia Iniziare a imparare A giurciare sotto anestro È una miglioria Che dovrebbe Che dovrebbe mettere Al suo gioco Secondo me Però io poi Figurati Non so nessuno Allora Intanto Volevo andarmi un attimo Riprendere le Le domande Io ho una domanda In realtà Se volete Oggi stavo pensando A che video fare E uno che mi era venuto In mente È I Nuggets E volevo Un discorso che si applica bene Anche ai Celtics Ci sono queste due squadre Che sono in realtà Complicate Perché Secondo voi Soprattutto lo faccio Per Denver Ma ripeto Un discorso applicabile Anche a Boston I Nuggets Hanno raggiunto Il loro ceiling Il loro massimo Perché sono quelle due squadre Che io almeno Nella mia testa Nelle due conference Sono lì Ma gli manca qualcosa Ed è da Ormai da un anno e mezzo Due Che è così Da quando Per i Celtics Dico io la mia Va vai Allora È un po' Un discorso Che abbiamo affrontato Mi sa anche In qualche live Estiva Forse Oltre a Boston Oltre a Denver Avevamo messo dentro Anche Dallas Cioè Sono quelle squadre Che hanno raggiunto Un certo livello Ora Dallas Sta facendo schifissimo Per carità Ma Che hanno raggiunto Un certo livello Ma che fai fatica A toccare Perché dici Girano talmente bene Ora Dallas Ripeto Non più Ma Girano talmente bene Che È difficile Trovare Quel qualcosa Che manca Per farli Arrivare Ad essere Ipotetici Contender Su Boston Dico che Per me Manca solamente Un po' di tempo Perché sono giovani E Tatum E Brown Secondo me Sono In un prossimo futuro I due principali Giocatori Su cui Che diventeranno I due principali Giocatori a Est Su cui Puntare Per arrivare al titolo Vista l'età Visto tutto I Celtics Ha raggiunto I loro Sealing Secondo te Secondo me Boston Ha un grande Freno In questo momento Che è Kemba Walker Purtroppo E Perché Gli sono esplosi Questi due giocatori Tra le mani Kemba Walker Ha un contratto Troppo pesante Per quello Che può dare E per me Dovrebbero cercare In qualche modo Di cedere Kemba Walker Di tradarlo Di far qualcosa Con Kemba Walker Ricordiamo Come dice I'm Favre Che hanno anche La trade exception Da 27 milioni Per il discorso Gordon Hayward Quindi i Celtics Hanno Tanto spazio C'è Drammond Sul mercato Può essere Il giocatore Ideale Non te lo so dire Serve qualcuno Al posto Di Kemba Walker Io per dirti Magari un Lonzo Ball Al posto Di Kemba Walker Il posto Che ovviamente Non può esserci Uno scambio Uno a uno Però se mi danno Lonzo Ball Reddick Bledso Per Kemba Walker Bledso no Bledso e Lonzo Ball Secondo me Insieme Non te li puoi riprendere Perché già Se li sono presi Quest'anno Si Però per un discorso Di salario Per un discorso Di salario Io credo che I Pelicans I Pelicans Li hanno C'hanno Botto di asset Quindi volendo Esatto Però per dire Intanto allunghi La panchina Bledso lo fai partire Da sesto uomo Da settimo Ottavo Chi se ne fotte Però Lonzo Difende più di Kemba Per esempio Il che potrebbe essere Un buon punto Di inizio Ma tanto di più Eh C'hai Tato Brown Smart Tice Tristan Thompson Insomma Inizi Bledso Dovesse arrivare JJ Reddick Dovesse arrivare Inizia ad avere Una bella rotazione Per cui Se Boston forse È delle tre È la più facile Da toccare Denver Io non riesco Veramente A immaginare Chi potrebbero Prendere Per fare Salto Di qualità Bill Te la butto lì Però Allora Il problema Di fondo È che hai Murray Jokic Che è Il La coppia Diciamo Vabbè Le Bronda Davis Ok Ma è la coppia Più affiatata Cioè A livello Proprio si intendono Al volo In campo Tu prendi Bill Secondo me Dovresti sacrificare Murray A quel punto Secondo me Il salto Di qualità Per me Bill È dieci volte Il giocatore Che è Murray Io non stimo Così tanto Murray Per me La bolla È rimasto Lì il Murray Della bolla Cioè Prima era il giocatore Che adesso Non sarà mai più Il giocatore Che era nella bolla E il salto Di qualità Che ti fa fare Bill Per Murray Vale la pena Di rovinare L'intesa Che alla fine Jokic L'intesa La crea Quasi con chiunque Se Bill impara Con i due movimenti Con i due tagli Quando è un passatore Così fenomenale È difficile Che proprio Non si trovino Però anche lì C'è un problema Di difesa A Denver Adesso è vero Che sta un po' più Sembra che stia Difendendo un po' meglio Però anche in quel caso Tu prendi Bill Che non è un buon difensore Almeno sulla carta Per cui Rischieresti di avere Un'arma offensiva In più Ma niente difesa E lì secondo me Hanno perso tantissimo Con Jeremy Grant E lì Perché era un giocatore Ti permetteva Di difendere Su chi Qualunque ruolo E comunque Non ti penalizzava Per niente in attacco Su Dallas Invece L'anno scorso Era un po' più difficile Pensare A cosa Poter toccare Forse Forse hanno già toccato Hanno sbagliato Con Curry Non lo so Io avrei detto Invece che Si erano mossi bene Perché Josh Richardson Difende meglio Di Seth Curry E secondo me Erano win-win Come trade Quella con Philadelphia Anche secondo me Però forse Forse avrebbe fatto più comodo A loro Un Danny Green Rispetto a Philadelphia Cioè un giocatore Ad esperienza 3 and D Che porti un po' Di leadership Un po' Di mentalità vincente Perché in questo momento Donchic Per la prima volta In carriera Si trova In una situazione Veramente di crisi A livello di squadra E probabilmente Non sta dimostrando Di essere proprio Un leader Capace di tirarti fuori Da questa situazione Anzi Eh Cioè È sempre lì Che lo vedi Che protesta Che ha da ridire Che Vrendo un sacco di tiri Dati anche dal nervosismo Cioè secondo me Si incaponisce Cioè sente la responsabilità E quindi pensa Che la soluzione Si prendesse un altro Triple step back Da 15 metri E sbagliare Cioè vedi Poi ha 21 anni No certo Però Si tra l'altro A proposito di quello Che diceva Fede prima Anche lì Bisognerebbe iniziare A parlare anche di Carlyle Perché Cioè se la situazione A Dallas È fatta di macerie Come sembra E Donchic Rilascia dichiarazioni dubbie Gioca Per se stesso Sostanzialmente Anche perché purtroppo Eh La squadra è quella che è Nel senso È anche un po' La gestione dello spogliatoio Probabilmente Ci devono essere Diverse pecche Secondo me Un po' un casino Dallas Sembrava Potesse E poi il grande problema È Porzingis Ragazzi Cioè Porzingis Non è più il giocatore Che era E vuoi O è un giocatore Che continuerà A avere problemi fisici Uno dietro l'altro E quindi non prenderà mai Il via Oppure È diventato Un giocatore Totalmente diverso Da quello che era E purtroppo Non può essere La seconda stella Che trascina una squadra Insieme Al Doncic Di turno Rispetto invece a Boston Come Dallas Secondo me Ma Boston Ancora di più Secondo me A livello di mercato Boston ha sbagliato Tutto Quest'anno Quindi Ha ragione di te Franz a dire Che sono La meglio modificabile Perché Fare meglio Di quanto Di quanto Non hanno fatto Diciamo Nel momento di mercato È facilissimo Tu dici che hanno sbagliato Secondo me è tutto Tristan Thompson Ragazzi Boh Per l'apporto che dà Non serve assolutamente a niente Tanto valeva tenersi Quelli che avevano Non gli servirebbe a niente Neanche Drummond Secondo me Però E poi Beh hanno perso Scusa Ti lascio subito Hanno perso Hayward Che è vero E nella bolla Non c'era Eccetera Ma Hayward Comunque Comodo A Boston Gli faceva Cioè Io non sono Sono un amante Di Gordon Hayward Però insomma Gli manca a roster In questo momento Un giocatore del genere E Kemba Boh Io avanti di buttare La croce addosso a Kemba Aspetterei perché Ha avuto i suoi problemini In quest'avvio Figurarsi Però effettivamente Ora lo scorso anno Si gridava Al fatto che Kemba Era un fit migliore Di Kyrie Per i Celtics Quindi adesso Siamo in una condizione Diametralmente opposta Perché i risultati Stanno un po' scadendo Vediamo un po' Nel senso Però Celtics in questa maniera Non sono secondo me Da finale di conference Nemmeno dipinti Nel senso Sono proprio distantissimi Guarda Tore Secondo me Io l'unica cosa Secondo me invece I Celtics Non hanno fatto Un'offseason Così brutta Perché Tristan Thompson L'errore che stanno facendo È far giocare Tice e Tristan Thompson Insieme Cosa che secondo me È assurda E giocano insieme Però Tice era il punto debole Nel loro quintetto Perché in difesa Regge Quel che regge In attacco Gioca Gioca a due Con Tatum E Brown E poco altro Gli serviva un centro solido E invece secondo me La cessione di Eward È stata una gran mossa Perché C'era il problema Dei troppi tiri Nella squadra C'è stato Quando c'era Irving E se vuoi Se tu Io sono d'accordo con Franz Brown e Tatum Sono due delle maggiori stelle Nel futuro a Est E devi dirgli Io sto investendo in voi Cioè voi siete le mie due stelle Vi lascio Tolgo Irving Tolgo Eward Siete liberi di prendervi 50 tiri A partita in due E sta funzionando In più c'è anche Il problema della difesa Che Eward Non è sto gran difensore No è vero Però in una stagione In una stagione del genere Un altro Buon attaccante Tante nel caso Ti dovessero mancare I Brown e i Tatum Serviva chiaro Che se Eward Voleva i soldi Che poi ha preso A Charlotte Hanno fatto bene A lasciarlo andare via Perché nel senso Ha preso un botto E non li vale Secondo me Ci mancherebbe altro Però buono Lo so C'è tante cosine da fare Oltretutto Uno dei giocatori chiave Marcus Smart Ci mancherebbe altro Grandissimo giocatore E tutto Però non è il giocatore Che ti fa fare il salto Di qualità Marcus Smart Secondo me È un ottimo Sesto Mi permetterei di dire Non può essere un giocatore Un giocatore chiave In una squadra Che punta il titolo È uno di quelli di volume Che magari ti cambia Nel ritmo alla partita Se entrano a partita in corso Oppure che hanno Gli attributi Per prendersi responsabilità Sia in attacco Che in difesa Quando serve Però Non può essere Un perno da quintetto Secondo me Così come purtroppo Anche Kemba Sta dimostrando E un po' L'aveva fatto anche Vedere nella bolla Che non è un giocatore Da attributi Nei momenti che contano Io spero Che ci faranno ricredere Perché A me una finale Celtics Lakers Sarebbe l'ideale Però Non li vedo funzionare bene È vero anche Che comunque Ange è un demone C'ha un sacco Di cosine in mano Hanno lo spazio salariale Che hanno Magari Ci fanno un sorpresone In trade deadline Vai a sapere Luca Dellungo Luca Dellungo E' un buon difensore Sì È solido Però Gioca alla piccola E a Est Come alla piccola Vuol dire che tu devi marcare Kevin Durant Chris Middleton Tobias Harris E proprio fisicamente E' bassissimo Il ferro alla piccola E' leggero E anche se Ti fa la rubata a partita Ed è solido Non è Non è un gran difensore Non dico altro Su Luca Dellungo Perché oggi Mi ha Mi ha Fatto arrabbiare Che cazzo ha detto Ha detto un sacco di puttanate Luca Dellungo Se Se Prima hai cacciato Tore ti ha chiesto di cacciare Chi era Moxi Ma c'è ancora Moxi Moxi Allora niente Non posso chiedere Che Luca Dellungo Venga cacciato Guardate ragazzi Io non sono riuscito A seguirla Chat Infatti mi scuso Tantissimo Con Perché c'erano Un sacco di domande Ma non sono riuscito A A seguirla Veramente Poi tra l'altro Ho avuto una situazione Un po' così Perché avevo la piccola E piangeva Il gatto che grattava La porta E Insomma Una serie di questioni Poco Che mi facciano stare Poco attento Sulla chat Guarda Guarda Luca Dellungo Come insulta Sta cercando Sta venendo addosso Cosa Per questo Queste sono Maleducazioni Da chat Di NBA Week Non da chat Di NBA Avete sbagliato Avete sbagliato canale E quell'altro Non c'è più Luca Dellungo Come? Dico a Luca Dellungo Che se vuole insultare Scrive NBA Week Altore Esatto Fai indirei Luca Dellungo Vieni Stavo vedendo Tairis Ali Burton Ali Burton Ok Allora Allora Abbiamo fatto due ore E sette minuti Ditemi voi Che tempo avete Che tempi avete Adesso la bambina È andata a letto Quindi io volendo Posso stare anche Un'altra ventina di minuti Tranquillamente C'è Simone De Donno Che chiede di leggerlo Io però non l'ho perso Ricercamelo Franza Leggimi Leggimi il tuo ore Questo? Vero, vero Se me ne avevi parlato Hai ragione te Veramente Ti sta prendendo la tua rivincita Grandissimo Tobias Sono Non ha questa memoria Il tuo ore È vecchio Assolutamente Ho fumato troppe anni Andrò ragazzo La memoria mi è andata Ho fumato pochi anni Però quei pochi anni Tante Quindi Neudonimo Noi sono bruciati Ma si vede Insomma Tobias Harris Le live su NBA Week Tobias Harris Ragazzi sta facendo una stagione Da All Star Potrebbe anche No è che le cifre Comunque le metteva lo stesso È che Premio di giocatore più migliorato Non ci sta Perché a livello di cifre Le metteva comunque Però ha trovato un suo ruolo Chiaro che prende sempre troppo Sì beh Però vediamolo poi Perché comunque Tobias Harris Magari Hai detto bene te Cioè Peccava Quando Il gioco si faceva duro Vediamo poi Se va avanti Comunque Philadelphia Invece rispetto a tutte quelle Di cui abbiamo parlato Almeno da quando ci sono dentro io Una di quelle Ha lavorato strabene In estate Franza Leggi Scusa Vai vai Parla No dicevo Dicevo Luca del lungo Luca del lungo Di lungo Di lungo C'ha solo il cognome Luca Nemmeno la finezza cerebrale Sotto l'omperio Figurazzi No ma Si diceva Si diceva Che a Lillard Serviva un Luca del lungo Eh si Esatto No dicevo Comunque Philadelphia ragazzi Invece è una squadra Che sul mercato Si è comportata benissimo E che ha anche Ampliato Come dire La profondità Del roster Oltre Che le spaziature In campo Prendendosi Il buon set carry Che secondo me Lì vedi che funziona E Dallas Poi te Franz Dicevi La trade Era win win Ma No Cioè hanno fatto Una grandissima cazzata E poi il grande Danny Green Sulla carta Sulla carta Dai Sulla carta Sulla carta Era win win Con seno di poi Il problema di Harris Secondo me non è mai stato Che lui giocava male Che poveraccio Giocava in una squadra In cui era l'unico Buono a tirare da tre E l'unico a cui si richiedeva Di fare Dare un po' di spe Giocava con Norford Embiid Simmons E chi ci stava Josh Richards Josh Richards Erano gli unici due In grado di Di metterlo in una tripla Embiid Saltoriamente Quindi era un po' costretto A forzare Tiri Che non si sarebbe presi In altre occasioni 5 minuti A sistemare la situazione Anche perché Non è un tiratore puro Tobias Harris Quindi nel senso Era costretto Era l'unico tiratore Sostanzialmente affidabile In una squadra Che non aveva Un cazzo di spaziature Perché Hai detto benissimo Dice merito di Doc Merito di Murray Forse Però merito di Murray Sicuro Cioè Magari Doc Sì lo spogliatoio Vaffanculo Quello l'ha sempre saputo gestire Però Ci voleva Ci voleva un genio Per risolvere il problema Esatto Ancora di più De meriti di Elton Brand Perché alla fine Penso che Tutti in questa chat Avrebbero In quella situazione là Dovevi prendere dei tiratori E basta Era l'unica cosa da fare Ha preso Danny Green E Seth Curry E cambiato Ma soprattutto Dopo che hai fatto La tua migliore Run Playoff Con Bellinelli Reddick Iliasova Saric Beh forse La run playoff Migliore è quella Con Butler Sì che sono usciti A gara 7 Però giocavano benissimo A me piacevano un casino Quando c'erano Bellinelli Reddick Iliasova Saric Insomma Giocavano veramente bene Covington Non c'era Covington Scusa ma Ma tra Sì c'era Covington C'era un grande Covington Ma scusate ma Tra Brown E Brand Facevano a chi era Più imbecille Nel senso sostanzialmente Era una coppia Di mezzi cervelli Che era forse Seconda solo a noi Di NBA Week A livello di idiozia Visto Tra l'altro Voglio dire Abbiamo fatto Sta litigata Abbiamo perso Cento iscritti Ma poi Anche gli iscritti Sono degli infami Di merda C'è cazzo ma scusa Luca De Longo Che si è disiscritto Con cento account Lui di sicuro È il primo degli infami Ma scusa Forca puttana Vi si fa uno show Incredibile Ci si offende La gente vuole Vedere il cazzo di sangue I litigi Poi vi ho detto Io ho rubato Le password Quindi Se si aggiungono 200 iscritti Da qui a giovedì Faccio una live Vaffanculo Da solo Comunque Esclusi i thunder Qual è la squadra Se no elimino tutto Se perdono altri 50 iscritti Elimino tutto Vaffanculo L'hai detto L'hai detto Che sia voglia Non brillo in coerenza L'unico canale Che col dissing Muore Invece di salire Comunque Esclusi i thunder Perché abbiamo un pubblico Di idioti Anche il pubblico Per cercare di recuperare Gli iscritti Che ha perso di Sandro Gli altri Vabbè insomma NBA Week Come canale Ha un futuro Mi pare di capire Allora Quindi quando Qual è la squadra Con più futuro per voi Sicuramente non NBA Week La squadra Di NBA Week Esatto No Perché quella prima La domanda Chi sono i vostri Big 3 Era bella Perché chi è Più Big 3 Di Torrefreddo e Biga Chi era più Big 3 Di Torrefreddo e Biga Nessuno Infatti È come un po' Come quando si pensa Che cazzo Ne so A Jabbar Worty e Magic Erano Un bel gruppo Di Big 3 Erano E chi era Worty però Worty e Biga C'ha l'occhiale Ma a parte anche Jabbar Ero Magic Grazie Grazie Senza contraddittorio Troppo facile Con l'HIV Con l'HIV Lo chiamavano Il grande pacchino Forse dopo questa Ti puoi riconsiderare Ho letto Il primo Il tuo libro Lo chiamano The Big Turkey Più spesso Che Magic Però cazzo Scusa Worty Da Worty Mi è sempre piaciuto Alla fine Però era troppo Cioè capite Era troppo Un giocatore prezioso Ma non appariscente Jabbar Tipo chiaramente Io se mi metto Un piede accanto A Jabbar Arrivo probabilmente Alla fine Nella Havia Quindi non mi posso Nel mio paragonale Lontanamente Perché sono un metro E un cazzo Da possesse Magic Anche se sono Un malato Dai Se è un big Turkey Vabbè Vabbè Però Voi mettere il gancio Cielo del Tore Tra l'altro Tra tutti i fondamentali Non mi è una cosa Non mi è mai riuscita Ti manca il gancio No no Guarda Ma veramente Ne ando già Ve l'ho provato Mille volte Luca Del Longo Non stanco di aver insultato noi Se la sta anche prendendo Con la chat Adesso Se la sta prendendo Con Marcone Ma che cazzo Luca Del Longo Ma tu non sai Chi sta insultando Ma perché Scusa Ma c'è Marco Tipo con l'account personale Incredibile Ebbene sì Ha scritto con due o tre Account diversi Ho notato Marco Guarda che Ma questo è un lacchezzo Si faceva noi Di NBA Week Eravamo tipo 16.000 computer connessi Si faceva finta Di essere due gentili live Eravamo un 4 Lo sa benissimo anche te Franzo Una volta avevi 50 account Io no Io non dico niente Silvio Berlusconi Roberto Buoni A me mi ha commentato una volta Silvio Berlusconi Era Franzo Era Franzo Con l'account sbagliato O Kevin Durant Con uno dei tanti account suoi Esatto Luca Del Longo Che poi Ma non eri Del Longo Adesso sei Del Lungo Ah no Sei sempre stato Del Lungo Aspetta No Aspetta Marco Gentili È uno che ha 7 milioni e mezzo Di follower su Facebook Non ti dico altro E te sei una merda Luca Del Lungo E te sei una merda C'hai le palle Vieni in live Luca Del Lungo E ti insulti Ti fai vedere in faccia Allora Allora Dicevamo le squadre del futuro Altra i Thunder Che poi Sì Esatto Le squadre del futuro Altra i Thunder Io francamente Non so quanto i Thunder Possano essere una squadra del futuro Ma Meno io Hanno tante scelte Però devono scegliere bene Ci vuole veramente Un Elton Brand Per non cacciare Qualcosa Da C'hanno 20 scelte Eh lo so Le prossime Però ragazzi Hanno tante swap Intanto Secondo me Sono capacissimi Di fare una trade Buttando dentro Tutte queste scelte E prendersi un qualcuno Si rompe Per la carriera Dopo tre giorni E sarebbe un po' di karma Anche se Teddy 69 Per tornare Ai bei vecchi nomi Di un tempo E no I Thunder Io dico I Boston Celtics Però io dico I Boston Celtics E basta Chi altro Non lo so Gli sto pensando Beh Kevz e Nick Si possono mettere A questo punto Tra i potenziali Buoni Per me Rimangono Nella mediocrità Forever Vabbè Grizzlies Grizzlies Guarda Io a differenza tua Non sono fiducioso Proprio al massimo Su Su JJJ No ma neanche Io non ho fiducia Che esploderà Quello che dico è Se esplode Diventa il giocatore Che promette di diventare Ha tantissimo Spazio Cioè Diventa veramente Uno forte 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 Però non è detto Che esploda Quello assolutamente no E vabbè Ragazzi Due ore e diciassette Vogliamo cazzeggiare Per tre minuti E dopo Buttarci A letto Va bene Se vuoi fare Allora intanto Denver 38 Sacramento 37 Quindi Millsap Millsap Non lo so Bisogna vedere Le statistiche Vado a vedere io Dai tranquillo No mi dicevano Che i hockey C'era già Praticamente In doppia doppia A fine primo quarto Con gli assist Una stagione incredibile Jokic ha fatto In questo momento Dieci punti Due rimbalzi E sei assist Ecco Invece Millsap Ne ha messi cinque Va bene Va bene È buono Harrison Barnes Ne ha messi dieci Per ora Il leader della serata In punti A pari con Jokic Ration Holmes Oh Harrison Barnes Sta facendo una stagione Clamorosa Ce l'avevo in Dunkest L'ho scambiato Per se a cam Però ce l'avevo in Dunkest E prende sempre Trenta Trentuno Trentadue Trentacinque Ah viaggio Diciassette di media Harrison Barnes Incredibile Eh ma anche tanti rimbalzi Sai Sì sì Sei rimbalzi E 3.6 assist Oh beh Harrison Barnes Una squadra Di 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 morti Vabbè Insomma Franz che reaction Fai domani Probabilmente nessuna Ragazzi No Perché C'è una bellissima Nets Sixers Alle 2 Ah porco Judo Però tipo Nets Oh poi c'è anche Kerry contro Don Cicc Vede alle 2 e mezzo C'è andata le belle partite Ragazzi Eh lo so Però Vabbè Vabbè Dicevo Le dormire Non c'è durante Non c'è durante Infatti Per la gioia di fede Esatto Di nuovo John McCollum Che è infortunato Non si sa quando torna Si passerà Milza A titolare Per forza Io invece Vi dico Mi guarderò Il partitone Delle 1 Tra Bulls E Orlando Magic Magic sono Una delle mie squadre Preferite Dal inizio stagione Vero Puoi anche scendere Ho visto mille volte Ma sta iniziando a ingranare Con Anthony Si è stanziato Su delle medie Quanto meno dignitose E poi c'è Chicago ragazzi Che mi fa impazzire Zach Lavin È un giocatore Assurdo Veramente Secondo me Un'altra squadra Zach Lavin Fa 10 di media Partendo dalla panchina Chicago Viaggia Dalle medie Da Jordan E sarei curioso Davvero di vederlo Da un'altra parte Per capire L'effettivo valore Di questo giocatore Perché comunque Quando ero a Minnesota Nell'ultimo anno Prima di rompersi Comunque funzionava Anche a livello statistico Cioè già Produceva abbastanza Sarei curioso Di vederlo In un'altra parte Lavin Perché chiaramente Non può essere la stella Sulla quale i Bull Se rifondano Perché non è una stella Lavin C'è proprio da fare È un buon Quarto violino Secondo me Buon quarto violino No Sei troppo cattivo Cazzo Io Lavin Lo adoravo Io Lavin Lo adoravo Secondo me Ragazzi Fa tutto In campo Dai No è vero E a dirlo Non è Luca Dellungo Allora è attendibile Hai il talento Di Lavin Da utilizzare Solo al campetto Però devi convivere Con Luca Dellungo Per il resto Della tua vita Cazzo me ne frega Del talento di Lavin Ho 40 anni Se mi dai i soldi Di Lavin Si convivo Anche con lui A fare un pazzo Come si chiama Matrimonio gay Allora Zac Lavin Comunque Per dire Zac Lavin Stavo pensando A una squadra Dove potrebbe Metterci sì Bene Ma I 76ers Insieme a Simon Sembid Non lo so Secondo me No Milwaukee Milwaukee Non lo vedresti bene Da qualche parte Cioè dove lo vedi No obiettivamente Cioè non è un giocatore Che calcoli mai Ma Cleveland In una squadra Come i Chicago Bulls Alla fine Gira che ti rigira E' Orlando Allora a questo punto Orlando Bravo Orlando O Indiana Indiana Togli le verte Lavin Se mi sostituisci Lavin con le verte Insieme a Brogdon E Sabonis E Warren E la vina a Pesaro Warren ragazzi Esatto Perfetto No dico ma San Antonio San Antonio Eh San Antonio San Antonio E' posto di De Rozzan Un bello scambio In carta identità Ci guadagnano Nel senso Almeno questo è giovane Ma sulle Giovane insomma poi E' giovane da una vita Lavin Effettivamente avrà anche I suoi anni Comunque le verte In che condizioni è ragazzi Voi sapete qualcosa Voi siete più Out a tempo indeterminato Ancora out Si deve operare ancora Mi sa O comunque Si è operato in realtà Però non so se debba Operarsi di nuovo Non ho idea Però Oh c'è il freddo Ciao Oh grande freddo Guarda che ha salutato me Fede Non te Mi sono già trovato In queste situazioni Nella mia lunga vita Di stronzi E salutano gli altri No non vogliamo dissing Su questo canale Per favore Se no ti chicco Allora Comunque Due ore e ventitré Abbiamo parlato Un po' E franzi vede Che entra il freddo E ha paura di bag E scappa Ciao ragazzi Ciao Arrivederci Oscuro La vallata No Allora Abbiamo fatto due ore e venti Due ore e venticinque Abbiamo parlato più o meno Di tutto E Mi Scusatemi Se Tante domande Non le ho lette Ma veramente Non ci sono stato dietro Alla chat In tutto e per tutto Mi scuso A una certa età E Dai Franz Dai Di per piacere a questa chat Cosa è successo Su NBA Week Io devo dirlo Tu lo sai Ma che so io Ma cosa so io Io non so niente Io posso solo immaginare È omertoso No Lo vuole dire Io non lo posso dire No no Io veramente Io posso immaginare Sì ho ancora il mal di gola Ragazzi Ho anche qua Tantum Ma ti sei fatto anche un tampone No Io fossi stato Se eri tu posto Me ne ero già fatti Tipo tre No no Ma non è mal di gola Ho un'afta Tipo qua in fondo E il problema è che Ci gratto tipo col dente Mentre parlo Infatti negli ultimi video Si sente che spesso Faccio tipo Tipo Rumori Tipo Pornhub Però Luca Dellungo Se vuoi sapere che è successo Con NBA Week Devi Devi donare almeno Altri cinque euro Almeno No però si può fare una cosa Guardi Io non dirò cosa è successo NBA Week Però posso uscire io E te fai entrare il freddo Per gli ultimi dieci minuti E glielo fai dire a lui Oppure state insieme Esco io e vi faccio stare insieme No no Perché sennò poi Franze dopo gli chiudono il canale No Con così tanta fatica Sono arrivato No vabbè dai A parte tutto E Boh Farete C'è un video vostro Sul vostro canale In cui ognuno dice la sua Andate a vedervi quel video Che ha già tipo Due mila cinquecento Tre mila visualizzazioni E Comunque ragazzi D'ora diciamoci la verità Noi Io so che il freddo Sta per aprire il suo canale Vabbè E quindi presto Ve lo racconterà Quindi Bene Che l'ho saputo per via traversia Chiaramente Neanche ci ho parlato Però Vabbè Aspetteremo il canale Va bene Allora Ringrazio intanto Fede Per la serata A te Il Tore Per essere riuscito ad arrivare Saluto il freddo e il biga Che freddo c'è Il biga Allora c'è un podcast Su Spotify Ho saputo Vabbè C'era prima E no ma uno suo Insomma Per questo ho preso Le password di NBA Week Per cui ho detto Allora scusate Io che cazzo faccio Nulla E allora tipo Ci stacca le loro biga Ma tu non sai neanche Accendere il pc Il Tore Allora fatti i pranzi Tu mi devi fare tipo Una haul Si fa insieme E tu mi spieghi Come si fa A fare uno stream Vabbè dai Facciamo un crowdfunding Per Pagarti un corso Ecco esatto Facciamo un crowdfunding E stasera va tanto di modo Facciamo un crowdfunding E vabbè dai Se donate dei soldi Nel crowdfunding Che nasce Ritornerà NBA Week In qualche modo Qualcuno Può essere qui Non ve lo posso Vedere c'è il gatto E' accanto Si fa Io è il gatto Che si fa le canne Cosa hai detto No Si fa Io Guarda Si può fare Un doppio Gattesco Guarda c'è Marcone Che ti ha trovato il futuro Il problema è che non sa neanche cosa sia Tinder Mi sa Mi cercate e mi trovate Va bene Only fans Only fans È il futuro Va bene ragazzi Niente Vi ringrazio di nuovo Queste live Volentieri Verranno riproposte Nel corso della stagione Domani c'è la live di Fede Sul suo canale Step Back Domani esce un video Su Domani esce un video Sui jazz Sugli Utah Jazz Lato mio Escono le pagelle Alle 14 E No Aggiungo Spero un giorno Di avere io ospiti Voi sul mio canale In una delle mie live Domenica sera E' quando vuoi Tanto la domenica Era Era un giorno In cui In cui si faceva Noi Quindi Si sembra Che ci si trovava In una stanza Con lacce mostate O le siringhe Il problema Il problema È che Non posso Non posso invitare Uno solo Di voi tre Di NBA Week E neanche tutti e tre Insieme Perché non posso Prendere parte In questa cosa Quindi Non lo so Posso venire a turni Tutti e tre La stessa sera Ma io Dopo questa Non apparirò più Non appari più Non ho deciso di smettere Va bene Non ci sarò più Se mi pagano Ti voglio chiedere soldi Mamma mia Torre Non far la fine Di Delonte West Guarda che non Mi voglio Sei più salutista D'Italia Io ragazzi Ma scherzare Due giorni Che non fa sport Mi sento Un morto vivente Bisogna Do mattina alle sette Ma alzo Fa tre ore Ma cazzo Ma invece di andare a correre Ma fai la reaction con me Ma che sei impazzito Come fu a fare le reaction Non si rifiuta così A una proposta di lavoro Madonna Quanto mi dai Quanto mi dai Quanto mi dai No a parte di scherzo La mattina sono in delle condizioni ridicole Mi ci vuole veramente un botto a carburare Per questo devo fare roba Poi Nel senso Domani fa tre ore di sport Ma alzo almeno le nove Le nove e mezza inizio Sono alzo all'otto anche domani Dio buono Per tutta la settimana Come si fa Comunque Va bene dai Finiamo qua Ringrazio tutti i presenti Tutti quelli che ci hanno seguito La live rimarrà ovviamente su YouTube Ringrazio Fede Ringrazio Tore I Kings sono avanti di tre Contro i Nuggets A quasi fine primo tempo È stato bello E ringrazio anche tutti quelli che hanno donato Siete dei pazzi E noi ci vediamo prossimamente Chissà se qui su YouTube O su altre piattaforme Strane Un saluto Only fans Only fans Ciao a tutti ragazzi Grazie Buona notte Un saluto